Si vede, amici? Fateci sapere se ci vedete. Grazie, Vector. Ti si sente, sì. Ti si vede, ti si sente. Vai. 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 Ti faccio da presentatore tipo Amadeus? Come non ti sentono? Aspetta, non ti sentono. Come non ti sentono? Perché? Eh no, perché l'ho sentito dalle mie cuffie, ma non lo sentono. Aspetta, eh. Aspetta, aspetta. Perché non lo sentite? No, ma andava tutto bene ieri. Cosa è successo? Moro. È il bello della diretta, certo. Palli, adesso scopriamo perché... Sentiamo dalle tue cuffie. No, ma lo sentite dalle mie cuffie, ma non lo sentite giusto. Ma perché? Aspetta un attimo, che controllo una cosa, eh. Intanto facciamo così. Vengo un attimo qua. Eh, ma non ti sentono, purtroppo. Eh, non ti sentono. Puoi intrattenere, ma purtroppo non ti sentono. Aspetta, eh, un attimino. Ieri funzionava tutto, oggi non funziona. Aspettate, che intanto faccio una cosa, eh. Mentre controllo vi lascio il mio faccione. Eccoci. Allora, aspetta un attimo, che adesso vediamo cos'è il problema. Allora, parlami. Ma, non so... Io... È tutto su default, Moro. Non ti sentono. Ma è tutto su default. Ma perché non funziona? No, ma infatti io ti sento. Dovrebbero sentire quello che sento io. Su OBS? No, non si alza neanche su OBS l'audio, Moro. Fammi controllare. Predefinito. Sì, lo sentono dalle mie cuffie, ma... Quello che... Eh, ci sono nella vita e ci sono anche qua, cioè... Allora, vediamo un attimino. Aspetta, proviamo questa cosa qua. Allora. Proviamo. Adesso in teoria ti sento. Mi sentite? Lo sentite adesso? Mi sentite? Aspetta che vado qui. No. Facciamo così. Mi sentite? Adesso ti sento. Aspetta, aspetta, aspetta che... Eh, effettivamente... Aspetta che adesso ti vedono. Aspetta un attimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Allora. Facciamo così. Guardami. Adesso ti sento. Ok, adesso ti... Ok, mi sentite, mi vedete? Sì, era effettivamente vagato, sì, era. Tutto a posto, tutto a posto. Perdonami, purtroppo, questi streamer, guarda, io non lo so. Veramente una vergogna. Figurati, figurati. Allora, dicevamo... Siete voi le vere rockstar, quindi non ti preoccupare. Comunque presentami che io tolgo lo screen. Allora, oggi abbiamo qua in diretta nazionale un artista che adesso vi dirà cosa ha passato nella sua vita, ha fatto la guerra, addirittura, pensate. Ed è il buon boot dei pinguini tattici nucleari. Eccoci. Eccolo là, va che bell'uomo. Bevo, tanto bevo. Buongiorno. Buongiorno. Ho fatto, allora, ho fatto la guerra nel senso che sono, cioè, sembro così vecchio. No, vabbè. Partiamo, partiamo male. Assolutamente, assolutamente. Scherzo, scherzo. Anzi, sei un bellissimo uomo. Beh, hai fatto la guerra. Hai vissuto di peggio, voglio dire. Hai vissuto il momento bugo, quindi alla fine hai fatto... Sì, 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 diciamo che è stata un'esperienza particolare e anche se in realtà l'ho vissuto a metà perché mentre succedeva il tutto ero a cena con gli altri. Vedi? Quindi non l'ho vissuto al 100%, però comunque è stata un'esperienza, un'esperienza molto particolare con anche, inclusa dentro un'esperienza altrettanto molto bella e particolare che saremo, ovviamente. Di cui tra l'altro parleremo dopo. Volete che lo alzo ancora di più? Lo alzo, ti prendo in braccio. Parlami, parlami. Ehi, 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 prova, prova, mi sentite, mi sentite. Ecco qua, adesso dovrebbero sentirti a modo. Va bene, quindi buongiorno a tutti, grazie Mark dell'invito. A te. Io appunto sono nuovo su Twitch, quindi certe dinamiche ancora non le capisco, perché sto per entrare nell'età dei boomer. Eh, buona che... Anche se è difficile da dire, non sembra, però avere 27 anni quasi, già sei nell'età dei boomer. Grazie, perché io sono più vecchio. Eh, ma tu non sei boomer perché su Twitch, su queste cose qua di giovane... Ah, dici, ok. La prima crisi di Discord, io invece io faccio abbastanza fatica. Che è la prima cosa che mi hai detto, infatti, appena ci siamo sentiti su Discord. Allora, io sono un boomer, hai messo subito in chiaro questa cosa. Esatto, esatto. Cioè io Discord faccio fatica, però alla fine comunque il risultato lo raggiungiamo a forza di provarci. Però, ecco, certe cose... Cioè è proprio brutta la sensazione che ho provato la prima volta che ho usato Discord, che era per giocare con degli amici online. E no, scaricati Discord. E io ho detto, vabbè, ok, sarà come Whatsapp. Nel senso che io entro, ci sono delle chat, delle cose. Fa, no, no, devi entrare nel server, accettare mettendo un codice con un hashtag, e poi dopo devi schiacciare, avvia, puoi avviare l'altro. E quindi la sensazione è proprio quella di non capire. È proprio brutto. Ti senti... Eh beh, ma certo. Ti senti vuoto. Ma a me succede anche un po' con la tecnologia. Perché sì, io lo faccio di lavoro, ma cose nello specifico ho bisogno di chiedere a chi l'ha fatta prima di me. E vado in palla anche io. Però poi in realtà, dai, se ne esce alla fine, voglio dire, no? Sì, 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 alla fine se ne esce sempre basta avere la voglia. E questo è un grande insegnamento anche nella vita. che se volete fare una cosa e ci provate fino alla fine, di solito ce la fate. E se non ce la fate, comunque avete provato e siete a posto con voi stessi. O meglio io ho imparato questo nella mia breve esperienza. È un'ottima filosofia. Quindi anche su Discord e tutto quello che riguarda il comparto tecnologico dovrebbe funzionare talvolta. Poi c'è la macchina che a volte fa quello che vuole, però... Ma poi ogni tanto penso, i nostri nonni che arrivano da... Adesso io purtroppo il mio non l'ho vissuto più di tanto, ma che arrivano da un'epoca completamente diversa, hanno imparato a usare una cosa come il tablet. Non tutti, però tanti. Sì, sì, sì. Per noi sta roba deve essere... Che ci sia nati deve essere una roba... Per forza dobbiamo farla. Sennò siamo dei perdenti. Proprio generazione di perdenti. E poi, cioè, figurati per... Se noi facciamo fatica con certe cose, figurati loro... Mamma mia. Cioè, il fatto di schiacciare una tastiera dove non ci sono i tasti, ma è tutto un video, è complicato. Però comunque anche lì, se si ha la voglia, si può riuscire, ad esempio il mio nonno, si è voluto che gli comprasse, si è voluto comprare uno smartphone, e poi ha imparato a utilizzare Google solo ed esclusivamente per i risultati dell'Atalanta. Pensa, pensa. Un tifoso che gli fa... Eh, ho guardato ieri su Google... Ah, vabbè, bello. Quindi, bella storia, una bella storia... Chiamavano che quest'anno fa 85 anni. Complimenti. Grazie, è bella... Un bello step di vita. Ce l'ha fatta, bello step, esatto. Allora, intanto, poi ovviamente... Io ho silenziato sub, re-sub donazioni, ovviamente dopo vi ringrazierò uno per uno. Grazie a tutti, ovviamente, chi lo sta facendo e chi non lo sta facendo, anche che sta solo guardando. Ehm... Oggi, fondamentalmente, vogliamo chiacchierare un pochino così. Tranquillità, non è niente di impostato, niente di giornalistico, come ti dicevo. Non che ci sia qualcosa di male in un'intervista giornalistica, ci mancherebbe, però... Siamo belli tranquilli, belli rilassati. E, innanzitutto, ti ringrazio io a te per essere venuto, perché, insomma, ti seguo, lo sapete che vi seguo da un sacco. Ho detto adesso che abbiamo iniziato a parlicchiare, no? Per il Fanta, per queste cose qua. Tra, magari si parte una chiacchieratina anche là. Ah, che poi sono cose che... Ieri ci siamo sentiti un'oretta per sistemare quale cosa stava. Eravamo partiti già a parlare, ci siamo bruciati tutto. Quindi, per dire, è proprio una curiosità di sentire cosa da dirmi e di raccontarlo un po'. Di farlo raccontare anche a voi in live. Allora, io vorrei partire con una... Da quando eri piccolino, no? Partirei subito con qualche domandina. Quindi, niente domande scomode. No, no, no. No, quelle no, Moro. Le domande... No, quelle non le chiederemo, però... Non troppo scomode. Esatto, non troppo scomode. Dal livello di scomodità, se è da 1 a 10.000, facciamo che arrivate massimo a 2.000 di scomodità. Sì, dai. Non esageriamo. Esatto, non esageriamo. Proprio così... Cose troppo... Però, leggeremo ogni tanto anche qualcosina dalla chat. Non so se la vedi, ma in caso, boh, se te la vuoi aprire al piccino, vedi tu. Sennò te la leggo io, non c'è problema. Non c'ho pensato. Non ti preoccupare. Non c'ho pensato al computer è da basso. Non ti preoccupare, te la leggo io. Mi farei tu da mod. Sì, ma scherzo. Faccio io oggi. Sono Amadeusi oggi. Sei al mio festival di Sanremo. Faccio io. Purtroppo non c'è... Non ci sono artisti di fama internazionale, ma questo non è un problema. Eh beh. Ci sei tu. Va bene così. Allora, io volevo partire appunto da quando eri più piccolino e chiederti quali sono state le tue influenze musicali quando eri piccolino, perché comunque tutti le abbiamo avute, anche chi non fa il tuo lavoro, e appunto chi sono stati i tuoi artisti di riferimento, se ce ne sono stati italiani, se ce ne sono stati americani o in qualsiasi altra parte del mondo, insomma, dici un po'. Allora, parto subito dicendo che io mi sono avvicinato alla musica veramente giovane, giovane, cioè al di là che poi comunque i miei hanno sempre ascoltato musica in qualsiasi situazione, quando magari facevano le pulizie c'era lo stereo acceso, piuttosto che in situazioni in cui si è lì sul divano e si ascolta musica, mi sono avvicinato veramente tanto alla musica che avevo circa sei o sette anni. giovane, perché quando andavo a casa dei miei nonni, magari al mattino durante l'estate, che non c'era scuola, i miei lavoravano, quindi andavo a casa dei nonni, e fra le tante cose che facevo, facevo zapping fra MTV, VH1 e tutti quei canali, insomma, che trasmettevano musica, in cui veramente il comparto musicale era molto più presente rispetto magari a adesso negli ultimi anni che ci sono più reality, più cose, comunque alcune cose sono anche belle, però insomma MTV una volta faceva da padrone la musica. E lì ho iniziato, ovviamente ascoltavo quello che passava, quindi molto pop, mi ricordo che c'era Magnolia, Lenegrita, che passava sempre. Che bella, che bella canzone. E quella canzone lì, cioè, alla fine è del 2002, forse 2003, quindi è veramente, parliamo di secoli fa. Io ce l'ho ancora in playlist, l'ascolto spesso, loro sono favolori. Eh, sì, 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 concordo. Poi c'era By The Way Can't Stop The Doci di Peppers, che poi, vabbè, aprirò un altro discorso su di loro. Sì, dopo parleremo anche di cosa hai fatto a proposito di questo, assolutamente. C'era Eminem, c'era Justin Timberlake, c'era Nelly Furtado, insomma, c'erano un po' di artisti che all'epoca andavano parecchio, e alcuni vanno anche adesso, e quindi io lì sono proprio appassionato, no? Cioè, a tal punto proprio di passarci proprio le mattinate, e a volte anche le giornate, no? Ad ascoltare appunto musica. E mi è capitato, sai, quando ti raccontano i genitori, no? Perché sai, io una volta non c'avevo mica l'MP3, perché all'epoca mi diceva l'MP3, neanche il Spotify, no? E dovevo registrare tutto sulla cassetta. E io, più o meno a quell'età lì, avevo un registratore, tipo, da bambini, con dentro ovviamente il mangianasse e le cassette. Quindi mi facevo comprare le cassette dai miei, e cercavo di registrare, fra la stessa cosa che facevano loro. In tempo, quando c'era... Sì, quando c'era la canzone. Quindi magari partiva dopo, oppure c'era lo speaker che diceva, ecco, Tiziano Ferro. E quindi partiva appunto la registrazione, e poi me lo riascoltavo. Insomma, era molto... Poi tra l'altro questo mini stereo da bambini, c'aveva anche il microfono, che ovviamente ti faceva una voce totalmente gutturale, nel senso che tu cantavi... Ah, e io già faceva... Sì, 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 era certamente... Però avevo già un po'... Eri sempre Mario Biondi, eri sempre... Esatto, sempre Mario Biondi. È il Mario Biondi Simulator 1.0. Lo streameranno anche gli streamer, adesso, recentemente. Eh, infatti, infatti. E quindi niente, mi sono avvicinato in quel periodo lì alla musica. E successivamente ho iniziato poi, fra la prima e la seconda media, a suonare la chitarra. Per la cresima mi è stata regalata la mia prima chitarra. Eh, perché? Perché quell'anno ero andato al mare in campeggio, e c'era questo ragazzo nella tenda, nel camper, se non ricordo, accanto alla mia, che suonava la chitarra, così, chitarra da spiaggia. Sì, sì, certo. Quindi magari ci buttava dentro una canzone di Dalla, una canzone di Battisti, magari qualcosa, Africa dei Toto. Le classiche canzoni per quando impari a suonare la chitarra. Esatto, ci buttava dentro quelle canzoni lì e c'aveva questa chitarra, mi ricordo ancora che era una chitarra acustica con il manico scuro e il, e il, e era blu, insomma, questa chitarra, quindi nero-blu, tra l'altro. Eh, a volte è la vita che si uniscono, si tirano insieme. E insomma, ho deciso, insomma, che mi sarebbe piaciuto anche a me. E in particolar modo perché avevo sentito due canzoni, perché nel frattempo avevo già iniziato a comprare i dischi, e avevo sentito due canzoni che volevo un po' emulare, cioè, volevo, volevo suonare. Volevo rifare, sì. Esatto. La prima, che è stata anche la prima canzone dove ho scaricato gli accordi così, è The Secretion Smile Dead of Chili Peppers, 2006, ed era quell'anno lì. La seconda, che in realtà è stata anche la prima, cioè il motivo per cui ho detto ok, voglio iniziare, è Complicated di avere la vita. Attenzione, beh, ma lei è un'altra che, se siete 93, 94, 92, per forza. E, tra l'altro, il disco dovrei avercelo ancora qui, perché è stato il primo disco che ho comprato, che è Skater Boy. Vediamo se ce l'ho ancora. Io non ne ho CD di Avellavine, nemmeno io. No, non ce l'ho, peccato, però no. Ce n'è un po' di altri che ho comprato poco dopo, però comunque il primo disco che ho comprato è Skater Boy. Ce l'avrei lì da qualche parte, insomma. Sì, forse è di lì, però non mi voglio staccare, sennò cade. Vai tranquillo, ti preoccupi. E quindi, insomma, ho iniziato lì a suonare la chitarra. Ho preso le prime lezioni, perché all'epoca in oratorio c'era un corso post-scuola che era il 2006, tipo. Io facevo lezioni, così. E poi, insomma, ho sempre suonicchiato la classica storia in cui, ok, vado a scuola, sia alle medie che alle superiori, quando torno a casa, se ho a disposizione sei ore, cinque e mezza suono e mezza e mezza ora studio. Quindi, tipo, c'erano i miei vicini di casa che... Cioè, erano contenti, in realtà. Se lo facevi alle tre di notte, magari, insomma. Avevo ancora orari stabili, ero ancora una persona stabile in quel periodo lì. E quindi, insomma, sono andato avanti, insomma, tanti anni a suonare, ho avuto tante esperienze, anche a livello locale, comunque a Bergamo. Ho avuto un po' di band, un po' di situazioni. E tra l'altro, il primo concerto che feci, poco dopo, che, vabbè, cioè, era una di quelle cose proprio di paese, non è che fossimo neanche tanto bravi volendo guardare, però fu con Elio. Attenzione. Elio Biffi, sì. Ma prima di tutto questo, molto prima, cioè, non c'era... Sì, era il 2007, credo. Eravamo in terza media. Stavamo per passare alle superiori, era quell'estate lì, e c'era una festa che facevano nell'area feste qua di Pedrengo. Tanto sto incensando a Pedrengo, vabbè, ci abito. E avevamo suonato lì il primo concerto, cioè avevamo fatto cinque pezzi, Nakina Levensdor, insomma, lì che si fanno come sia ragazzini. Però, insomma, le prime esperienze, i concerti, le prove, così. E poi, nel corso degli anni, durante tutto il periodo dell'oreo superiore, ho sempre comunque suonato. E, insomma, e anche i miei compagni di classe, insomma, apprezzavano molto questo mio lato in cui, ah, tu suoni, che bello, eh? Sì, 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 c'erano ovviamente quelli che c'era l'Eterna... Perché all'epoca c'era, per quelli più giovani penso che non lo sappiano, la lotta fra la tectonic e la musica pop rock, no? Cioè, sì, sì, a voglia. C'erano anche gli emo, ma questo è un altro discorso che non affronteremo. Però gli emo era più... Cioè, la musica emo era più dalla parte... È vero, hai ragione. ...della parte del club, no? E quindi la musica tectonica... Ah, no, perché noi facciamo... Cioè, la tectonica è più figa, tu ascolti la musica da vecchio, faccio sì, beh. Ok. Però mi piace. Mi ricordo ogni volta questi dibattiti a scuola, veramente incredibili. Eh, sì, 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 era così, era così. E basta. Quindi, ecco, quando poi ho iniziato a suonare, ho iniziato ad appassionarmi, ovviamente, principalmente i retoci di Peppers, perché comunque mi sono sempre rimasti, non so per quale motivo. Poi l'ho capito più avanti, perché sono una band che riesce a fare delle canzoni con soli quattro strumenti, che ti riesce a emozionare, che a livello di testi, a livello di presenza scenica, a livello di cose, mi ha sempre fatto impazzire. Quindi ho avuto quel background lì, che è rock, misto a funk, misto a pop, misto a un po' anche di punk. Sono molto vari loro, sì, sì, sì. Sì, 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 esatto. Poi, oltre a loro, mi ricordo che ascoltavo parecchio anche Bob Marley, insomma, che mi piaceva molto, insomma, il ritmo reggae caraibico, mi piaceva parecchio. E durante il periodo d'orole superiori, a questo, ci ho aggiunto anche un po' di indie, Britpop, quindi Arctic Monkeys, Tudor Cinema Crado, Cooks. Beh, sì, sì, sì. Insomma, adesso non mi vengono in mente altri nomi. Hai Franz Ferdinand. Lì, l'hanno sempre ascoltati meno, ma anche loro, mamma mia. Eh sì, hanno questa potenza nelle chitarre, che veramente, questi accordoni, queste note che proprio ti arrivano in faccia dritti. Ti fanno bene voglia di suonarli, che spesso capita. Esatto, esatto. Tra l'altro, l'apposito dell'Ethodore Cinema Club, che è una band che comunque era, cioè, quando ho iniziato ad ascoltarla, che proprio erano nulla. Cioè, non lo dico per dire, io sono il primo, è che non mi interessa. Però ho iniziato ad ascoltarli, che doveva ancora uscire il primo disco, quindi 2009, 2010, e poi li ho sentiti per la prima volta dal vivo, quando sono stato allo Ziget, con la band, che mi sono andato, però dopo magari ne parleremo. Sì, sì, ne parleremo. Quindi è stato molto bello, perché ero da solo, perché agli altri non interessano, anche io ero da solo in mezzo alla folla, con le lacrime, finalmente, dopo dieci anni, li riesco ad ascoltare. No, più dieci anni, no, dieci anni no, però comunque, vabbè, quindi, insomma, questo. Poi, vabbè, c'era anche tutto il comparto del classic rock, ovviamente, i Led Zeppelin, tantissimo. I dischi Led Zeppelin ce li avevo qua. Led Zeppelin 2, 3, 4, i vari, se li avevo comprati, così come anche Hendrix, ovviamente. Mamma mia, Hendrix. Mi piaceva tanto, perché sì, perché non c'è da dare spiegazioni. Esatto. Così come Santana, anche. mi piaceva parecchio, Deep Purple, i Rolling Stones, anche, anche i Beatles, ovviamente, che poi più cresci e più li apprezzi, i Beatles, capisci la loro genialità, il loro modo di... Diciamo che sono stati anche in un periodo, cioè, hanno fatto delle robe incredibili anche per il periodo in cui erano loro, insomma. Anche Rolling Stones questo, eh? Non solo loro. Certo, certo, certo. Li apprezzi anche come... E' anche vero che, cioè, i Beatles comunque potrebbero essere anche attuali, visto le scelte che hanno fatto, visto la visione che avevano delle cose, quindi erano veramente avanti. E poi anche tutte le varie singolarità, cioè i dischi di Paul McCartney, i dischi di John Lennon, anche di Ringo, piuttosto che poi Ringo ha anche una storia. Sì, sì. E anche di George Eliot. Insomma, questo è stato un po' tutto il mio... background musicale. E anche una band che forse non è tantissimo conosciuta, però probabilmente sì, che sono i Kings of Convenience, che sono una band... Io non conosco. Quelli di Miss Red, Dance With You, sì, ma sicuramente li conosci. Probabilmente se li ho già ascoltati, magari. Chitarra acustica, alti, uno è rosso, con gli occhialoni, l'altro un po' più basso. Insomma, ci sono alcuni pezzi famosi. Il video musicale dove ci sono loro nel parco che suonano, quell'altro che gioca a calcio. Insomma, è una band che nel 2004 andava parecchio e adesso non sta facendo più niente un po'. Però anche quello è stato molto, molto importante, la band loro, per il poi, per quello che è successo dopo negli ultimi cinque anni, che non riguarda la band, ma che riguarda poi un altro progetto. Quindi, insomma, questo... Sì, sì, sì. Sono partito. Se ho capito parleremo anche di quello, poi comunque. Sì, sì, sì. Tra l'altro mi stanno prendendo in giro in chat perché a me non piacciono i Queen e i Queen anche loro sono... Io lo dico sempre, però. Ti sta collando il tetto della casa quando l'ho detto, probabilmente non lo so. No, cioè, ci può stare. No, perché appunto io dico sempre anche dei Queen, un po' come ho detto anche adesso a te, dei Beatles, così, che a me non piacciono, però effettivamente hanno fatto qualcosa di unico. Quei suoni e quelle cose a quel tempo è tutto merito loro. Anche se esistono delle band adesso è merito di loro e di quel periodo lì, quindi assolutamente io riconosco il valore che hanno avuto nell'ambito musicale. Poi non li ascolto per i fatti miei, ma questo anche chi se ne frega. E appunto il progetto che dicevamo prima, che voglio introdurre subito, così ci racconti un po' come è andata, come è iniziato tutto, è quello che è successo nel 2003, ovvero il signor Boot nel 2003 ha fatto una... No, no, 2013. Scusami, 2003 era in prima media. E qui siamo, hai fatto la guerra. E se vedi, vedi, è tutto collegato. Sono sempre più vecchio. Tutto collegato, tutto collegato. In realtà c'ha... Quanti anni hai, no? 52. In realtà ha quasi gli anni di suo nonno lui, adesso non lo vuole dire. Esatto, più o meno. Parato più a guardare le notizie sul telefono. Sì, bravissimo. Ha usato Discord, è fantastico. Appunto, il 2013 ha fatto una tour europea e anche mondiale, adesso poi direi meglio tu, in una tribute band dei Red Dot, appunto. boh, racconta tu di com'è partita, com'è iniziata. Io ieri non mi sono voluto spoilerare, perché ieri voleva accennarmi qualcosa e ho detto, fermo, voglio avere tutto il live, voglio che mi racconti tutto il live nature. Voglio sentire tutto il live. Allora, io direi di partire dall'estate di quell'anno lì, l'estate della maturità. Quindi, periodo in cui ti dedichi al 100%, più o meno, facciamo 90%, allo studio, alla preparazione, la tesina, le cose, le robe. O ti fai bocciare, come me, ma questo è un altro discorso. Sono scelte, comunque, sono scelte. Quindi, appunto, ti prepari per me la maturità, per la tesina, che tra l'altro io, come tesina, siccome facevo un istituto tecnico, quindi ragioneria informatica, avevo preparato una specie di sito web che ti permetteva di acquistare biglietti per eventi. Mi ha detto, vabbè, se non posso suonare, perché allora faccio questa cosa qui. Faccio questa cosa qui. Con la mappetta, con le cose, seleziono al post, così. E appunto, quell'anno lì era l'anno della maturità. Dopo aver fatto la maturità, che l'avevo finita, mi ricordo, il primo di luglio, se non sbaglio, con un voto che non vi dirò, soltanto che va, è in mezzo fra 60 e 100. Va bene. Il mio voto sta lì in mezzo. 60 in realtà adesso. Dovete capire voi, no, 67. No, l'ha detto. 67, comunque. Insomma, poco dopo, intorno ai, adesso non mi ricordo se, proprio a metà luglio, ai primi di agosto, ero in giro, insomma, con amici e c'è un mio amico che abita qui nella mia zona che lui ha l'orto. Aspetta, ha un senso. Sì, sì, no, c'era, ma figurati. E quindi erano tipo le due del mattino, due e mezza, che vabbè, ci facciamo un po' la ditta alto, no, a fare chissà che, a chiacchierare. E fa, dai, vieni là, che devo innaffiare l'orto e vieni là con me, va bene. Era il primo periodo in cui, forse avevo l'iPhone 3, adesso non mi ricordo, quindi avevi già le notifiche, le cose di Facebook, così. E mentre lui sta innaffiando l'orto, mi arriva un messaggio e io dico, te, Ale, mi è arrivato un messaggio, lo leggo e insomma mi hanno chiesto se, cioè, mi hanno chiesto, ah, ciao, come va, io sono, mi hanno chiesto se volevo, se voglio partecipare, fare un tour per, praticamente, come chitarrista, per le date italiane di questa tribute band di Redossi Lipet. Quindi inizialmente era una cosa italiana. Sta innaffiando, fa, ah, che bello, e si rimette a rinnaffiare. Ok. Allora, siccome il ragazzo in questione era brasiliano, qui da loro era, credo, le dieci di sera, perché sono indietro di otto ore, se non sbaglio come fuso, gli faccio, guarda, è un po' tardi, facciamo che ci risentiamo domani, magari ne parlo anche con i miei, e tutto quanto, avevo 17 anni, giustamente. Quindi, niente, date italiane. La mattina dopo mi sveglio e a tavola faccio, guardate, mi hanno chiesto questa cosa qui, quindi io poi mi ero andato a informare, ero andato a vedere, tipo, il sito, così, perché sai, comunque i genitori, giustamente si preoccupano, chi sono, quindi io ero andato a guardare, tutte le cose, il sito, la storia, le robe, quindi ho guardato tutti i dati, tutte le cose, e mi fa, guarda, mi hanno chiesto se voglio fare delle dati in Italia, ma immagino che saranno due, tre massimo, cioè, si parte, si va, e insomma, il giorno dopo appunto, mi riscrive questo ragazzo, mi fa, guarda, come, cosa dici allora, ci stai? rifaccio, boh, cioè, sì, va bene, dai, ci sto, va bene, allora, prendi un biglietto, ci vediamo l'8 di agosto ad Amsterdam, prendi un biglietto aereo, quando arrivino a preoccuparti che ti rimborso tutto, poi dopo ci ritroverai anche con il bassista e il batterista, che arrivano uno dal Portogallo, e l'altro dall'Inghilterra, ma certo, e io gli ho detto, va bene, dai, grazie, ci vediamo, e spegne l'internet, e quindi io dico, va bene, ormai siamo in ballo, balliamo, cioè, cosa devo fare, lo dico a mia madre, che va bene, comunque mia madre mi ha sempre sostenuto, è sempre stata, cioè, mi è piaciuto quello che facevo, quindi va bene, allora prendo questo, prendo questo biglietto aereo, arrivo là, e ero, è stato il primo ad arrivare, perché avevo il volo al mattino, tipo alle, se non lo so, alle 8, non mi ricordo, sono arrivato là, e poi pian piano sono arrivati prima il batterista inglese, che parlava questo inglese, molto chiuso, cioè, molto piano, ma molto chiuso, quindi, io già facevo fatica, e poi ti volevo chiedere, ma tu riuscivi a comunicare in qualche modo? Sì, no, quello sì, quello comunque l'inglese l'ho sempre masticato, uno, perché avevo una professoressa, che ha sempre preteso molto, e due, perché, da, quando ero ragazzino, giravo tantissimo, i forum, attenzione, quando ancora i forum, quando le discussioni non erano su Facebook o su web, ma erano su forum, c'erano proprio lì, anch'io ero in 2-3 forum ai tempi di calcio, di altre cose, esatto, calcio, musica, così, e quindi, lì, dovendo scrivere, dovendo fare, avevo un po' imparato così, poi sai, i tessi, le canzoni, le cose, meno male, perché se no, come faccio, cioè, io non so, io sarei morto, quello di me, sì, sarebbe stato un disastro, senza sapere l'inglese, poi vabbè, essendo comunque brasiliano, il cantante un po' di italiano lo sapeva, o magari quando loro, quando fra loro si parlavano in portoghese, in portogale qualcosa farà, qualcosina, sì, però comunque a grosso modo, quindi in inglese, anche perché poi dopo abbiamo avuto a che fare anche con gente, ad esempio, poi a un certo punto, dopo le prime date, perché le prime date erano in Olanda, bellissima l'Olanda, voglio andarci, sì, sì, poi, oddio, noi siamo stati a Rotterdam, e non mi è che abbia, mi abbia entusiasmato molto, come città, molto, molto industriale, magari sono zone, diciamo, più tranquille, quelle belle, forse dell'Olanda. esatto, esatto, e noi stavamo in hotel, nessuno ricordo dove, però lì effettivamente era una bella zona, insomma, questa, questa città con tutti i fiumi, che la giravi con la barca, sono robe così, robe particolari, e abbiamo fatto i primi concerti lì, tra cui anche un festival abbastanza grosso, in cui avevamo gli headliner, e c'era anche un'altra band di italiani, che mi ricordo ancora, che eravamo, praticamente era questo festival in mezzo al bosco, e c'era un'altra band, oltre a noi eravamo tipo gli headliner, i primi, gli ultimi, e c'era un'altra, tra cui una band di italiani, che a un certo punto, io ero lì a farmi i cavoli miei, a bere un caffè, e mi fa, ma tu sei quel famoso diciottenne italiano, che sei qua a suonare, con la band, ah vabbè, ok, insomma, momenti divertenti, e basta, insomma, poi siamo andati avanti, siamo andati, abbiamo proseguito verso l'Inghilterra, poi in Inghilterra, si erano cancellati i nostri, avevano cancellati i nostri concerti, perché era stato quel periodo, in cui c'era stata quell'alluvione, che aveva colpito Londra, quindi alcuni locali avevano dovuto chiudere, la metro aveva dovuto chiudere, per qualche giorno, è una roba così, quindi alcuni concerti erano saltati, però comunque avevamo fatto i nostri, il nostro paio di concerti, abbiamo visto un po' anche delle zone, sono le island, non penso perché le island sono in Scozia, però girando in macchina, con la guida a destra, esatto, cioè a sinistra, però tu sei a destra, tutti questi posti, tra l'altro mi ricordo una volta, che io avevo preso la patente, da qualche mese, quindi sai, prendi la patente da qualche, stavo pensando a me in quel periodo, e io di sicuro non stavo facendo la patente, come ti dicevo prima, avevo appena preso la patente, quindi sai, fai già un po' fatica, tipo quando prendi la patente, fai fatica, perché quando c'è un semaforo, che sta per diventare, che è verde da un po', ti avvicini e dici, non diventare a rosso, ti prego, perché se devo ripartire, mi spengo, ed è la fine, poi quando sei in salita, dici oddio per favore, no che devo fare il freno a mano, devo fare il gioco, non ce la faccio, menate cose, e mi ricordo che eravamo in un posto, avevamo parcheggiato in centro a Londra, cioè non proprio centro centro, ma poco fuori, perché dovevo andare a vedere una cosa, eravamo in macchina del cantante, e mi fa, guarda, se dovessero arrivare, che ci chiedono di spostare la macchina, spostala tu, però vi faccio, ma, sei sicuro, guarda che io, ho la patente da tre mesi, ho usato la macchina quattro volte, e vabbè dai, tanto ce la fai, vabbè ok, allora ho detto, vabbè dai, ce la posso fare, quindi, allora, le nostre macchine funzionano, io sono seduto qui, e sono a sinistra, quindi metto la cintura e vado, in Inghilterra è tutto il contrario, cioè che sono a destra, vabbè, magari lo sapete già, però lo dico, la, quindi la cintura la prendi da qua, le marce ce le hai qui, però comunque le marce, girano come noi, cioè la prima la metti così, poi va indietro, quindi la prima cosa che ho fatto io è, dai dai, ok ce la posso fare, e ho preso la cintura a sinistra, rendendovi conto che non c'era la cintura, forse non ce la posso fare, speriamo che non arrivi nessuno, la dimmigra da spostare la macchina, se no qua, ce la sposto, la sposto spingendo, vabbè a parte questo, insomma, finite le date in, in Inghilterra, il batterista sceglie appunto di, di abbandonare, perché, e quindi andiamo in, in Serbia, dove lì ci, dove lì ci suona appunto il nuovo batterista, che è un batterista serbo, che già suonava in una tribute band, e il nostro tour manager, anche lui suonava la chitarra, così, però faceva anche da fonico, cose così, e lì insomma, sì sì, lì insomma, abbiamo rifatto delle prove, tutto quanto, e mi ricordo questo aneddoto particolare, fra i tanti, che, poi se mi sto dilungando troppo, no no, io ti sto ascoltando con gli occhi a cuoricino, vai vai, ok, mi ricordo quest'aneddoto, in cui praticamente, arriviamo, in, in Serbia, con l'aereo, tra l'altro, in un aereo vuoto, eravamo dentro noi, più una, più una signora, con un bambino che piangeva, ovviamente, c'è sempre questa cosa, anche se siete in quattro, voi siete in tre, quello, ero un felescatto, eravamo in quattro, quindi noi tre, più la signora, con un bambino, quindi cinque, e il bambino piangeva, però vabbè, quindi questo aereo vuoto, ma io non sono mai stato su un aereo, prima è l'unica volta su un aereo così vuoto, insomma arriviamo in Serbia, niente, ci chiacchieriamo, così, e poi lì avevo conosciuto anche altri musicisti, quindi era stato molto bello, perché eravamo andati a mangiare, tipo, questo panino particolare, che fanno, l'agra, se non ricordo il nome, però carne, così, molto buono, e avevamo chiacchierato, quindi mi raccomando, domani partenza alle sei, perché dobbiamo andare a suonare, in, in, tipo, in, in Corsica, quindi tu dici, vabbè, sei a Belgrado, devi andare in Corsica, vabbè, allora preparo il bagaglio a mano, cose, mi sveglio la mattina, faccio, ah ok, quindi andiamo, no no, che aereo, andiamo in macchina, in macchina, veramente, vabbè, ok, poi tra l'altro io ero il più piccolo, non a livello anatomico, ma a livello di età, e quindi tu stai nel mezzo, quindi io mi sono fatto, 12 ore di viaggio così, mamma mia, fermo, poi in realtà c'era una, una tappa di intermezzo, nel senso che abbiamo suonato, a tipo all'inaugurazione, dell'Eurobasket, tipo dell'Europeo di basket, prima della partita, quindi a Slovenia, che poi tra l'altro, tra l'altro la Slovenia, bellissimi posti, perché, sembra di essere in Trentino, cioè ho avuto questa sensazione, del, qui, insomma, tutti questi, queste montagne, non ricordo di esserci mai stato, no, mi pare di no, è molto, molto bello, anche il posto dove eravamo, era una specie di, di albergo, cottage, tutto di legno, molto figo, che poi tra l'altro, anche lì, andiamo a suonare, e siamo qua in albergo, va bene, ok, albergo, ce la possiamo scialare un attimo, tempo 10 minuti, e invece, tirate, tirate via le vostre cose, perché appena finito di suonare, ripartiamo, oddio, vabbè, stressantino, insomma, stressantino, bello, ma stressantino, sì, sì, poi abbiamo fatto questo concerto, poi alla fine siamo arrivati, siamo arrivati in Corsica, passando dall'Italia, con, traghetto, cose così, però niente, è stato bello, anche la Corsica, molto bello, tanto ho scoperto, che il gestore del locale della Corsica, era tipo bergamasco, ah, vedi, e dico, cioè, facciamo il giro del mondo, incredibile, per scoprire che il proprietario ha origini bergamasche, e dico, vabbè, allora, cioè, siamo anche lì vicini, e basta, insomma, poi, dopo tutto questo, mentre eravamo in giro, mi hai chiesto, guarda, ti va di fare anche un, ti va di fare anche il tour successivo, che sarebbe stato in Sud America, allora poi, sono tornato a casa, tempo di stare a casa, sette, otto giorni, salutare tutti, ah, bellissimo, strafigo, eh, ok, e sono ripartito, per, appunto, per il Brasile, dove sono stato altri due mesi, tra l'altro, appena arrivato in Brasile, c'è una lista di incostruzione, perché era l'anno prima dei mondiali. Che storia! Quindi, quindi, sì, sì, molto, molto divertente, e anche quest'altro aneddoto molto divertente, sul fatto che, anche appunto, il cantante era, era molto, tifoso di calcistico, adesso non ricordo la squadra, che tifava, per una squadra brasiliana, vabbè, dai, arriviamo qui, arriviamo, arriviamo noi tre, io, lui e il, il bassista, perché poi il batterista sarebbe stato un altro, il brasiliano, dai, dai, sfidiamoci subito a FIFA, dai, Italia, Portogallo, certo, certo, dai, via il volo, mi ricordo che c'era Ballotelli, perché me lo ricordo proprio, neanche l'avevo schierato, eh, solo che, mi avevo dimenticato di una cosa, del fuso orario, ero arrivato là dopo tipo sette ore di viaggio, otto ore, o forse di più in realtà, quindi ero arrivato là, quindi da noi era le due, e là era le nove, eri un attimino, e iniziò a giocare, mai successo, mi sono addormentato sul joystick, proprio mentre stavamo giocando, quindi va bene ragazzi, io esco, facciamo che emulo i mondiali dell'anno, ecco, bravissimo, esco, bravissimo, e basta così, bravissimo, e basta, e poi che poi tra l'altro, è un'esperienza incredibile, ci siamo andati a sentire poi il concerto, a San Paolo, quindi mi sono visto anche un concerto, a San Paolo in Brasile, allo stadio, all'arena, qualcosa, non lo ricordo, però sì, è stata una bella esperienza, poi appunto, dopo quella, mi avevano chiesto di andare avanti ancora, però, cioè, era anche stressante, immagino, sì, poi va bene, va bene anche la tribute band, però fino a un certo punto, cioè, te lo fai come esperienza, adesso non lo rifarei più, vuoi fare anche cose tue, cose più, sì, esatto, c'è una bella esperienza, fai come turnista, però, basta, dopo un po', è giusto fare anche cose mie, e poi volevo anche appunto, ritornare a studiare, in maniera molto, molto seria, molto è, e quindi è quello che ho fatto, sono tornato a casa, e poi ho fatto tutti gli altri anni, tre anni dopo, poi, è arrivato l'occasione dei pinguini, di tutto quanto, e basta, quindi questa è un po' la cronostoria, di questo viaggio. È un'esperienza incredibile, che sicuramente ti ha formato, anche perché, in tutti i sensi in realtà, non solo a livello musicale, perché comunque eri in un posto diverso, parlando una lingua che non è la tua, parcheggiando in maniere, insomma, particolari, esatto, e quindi insomma, ti ha formato, è una cosa molto bella, ha fatto detto, quello assolutamente glielo devo chiedere, e poi niente, infatti, la prossima domanda che ti volevo fare, quella probabilmente più banale, in questo periodo, ma, per forza di cose collegate, tu che sei appunto abituato a fare tutte queste cose, avanti, indietro, ti muovi, soprattutto poi vabbè, adesso, in questo ultimo periodo, ma lo fai da un po', quindi, come ti, come stai passando questo periodo forzato, senza concerti, senza live, perché comunque per voi è pane questo, quindi, è tanto, insomma, è una bella botta, perché da che giri sempre, improvvisamente ti ritrovi fermo, ti ritrovi, o comunque se ti muovi per piccole cose, come te la gestisci anche a casa tu, per esempio, perché tu, c'è altro, sei anche degli studenti, adesso stai comunque facendo cose, insomma, come te la stai gestendo, come la stai passando, male sicuramente, insomma, dimmi un po', anche a casa, come te la stai gestendo, che fai? Sì, è sicuramente una botta, soprattutto, economica, ma soprattutto emotiva, e umana, per noi, ma noi siamo ancora fortunati, perché abbiamo la fortuna, comunque, di avere altre cose, a livello anche televisivo, ogni tanto, di uscire, ma, appunto, per tutti i lavoratori dello spettacolo, che questo è proprio un periodo nero, e si spera, appunto, che si possa, si possa essere un risveglio, da questo punto di vista, che i concerti possano riprendere, soprattutto per tutti quelli che lavorano, perché non c'è solo l'artista, ovviamente, ma ci sono anche tutti, tutte queste persone, che lavorano dietro le quinte, e per quanto riguarda me, in particolare, allora, capita che ci sono delle cose, che facciamo con la band, magari apparizioni televisive, piuttosto che, magari dobbiamo girare il video, certo, musicale, così, però io mi sto tenendo, impegnato, perché ne sto approfittando, ed ormai da un anno a questa parte, dalla quarantena a questa parte, ne sto approfittando, per, a parte studiare, ancora di più, preparare delle lezioni, per alcuni studenti che ho, cioè io faccio lezioni di produzione musicale, quindi, cioè, come si utilizza un, perché, al giorno d'oggi, ci possono essere delle produzioni hollywoodiane, anche, da casa tua, con il computer, quindi le lezioni che do io, è, ok, come si fa, cosa mi serve, come si usa un programma, che cosa vuol dire questo, che cosa vuol dire altro, come far suonare bene le cose, quindi, ho studiato ulteriormente, ho studiato soprattutto, come impostare delle lezioni, quindi sto facendo delle lezioni, tot volte a settimana, poi, sono sbarcato su Twitch da poco, e quindi sto diventando matto, con questo, perché devo farci la re, però comunque, mi sta piacendo molto, ormai, ormai se non leggo il tuo messaggio, che mi chiedi qualcosa, mi offendo, perché mi offendo, ormai voglio far parte, di questo tuo percorso, io se no, scusate, dall'alto delle mie ansie, dalle mie preoccupazioni, allora vado poi, a rompere le scatole, no, che però risponde sempre bene, per me è un onore, è sempre molto, mi ha dato molto una mano, e non parliamo solo di quello, ma anche delle nostre passioni, poi parleremo, quello sarà l'argomento finale, in chiusura, poi, sì, e poi, appunto, sono tornato a studiare, se sono andato a studiare, sono andato avanti a studiare, appunto, molto lo strumento, la produzione, le cose, e poi, ho anche la possibilità, di scrivere un sacco di musica, sto facendo un po' di collaborazioni, ho un po' di cose in uscita, perché oltre ai pinguini, io ho un progetto solista, appunto, di musica, che non definirei tecno, perché non è tecno, musica elettronica, musica, un po' per andare a fare un paragono italiano, un po' tipo popolo, che nel paragono italiano, è, insomma, è un grande artista, nel paragono internazionale, ad esempio, ci sono, non lo so, Bonobo, insomma, gente così, Moderat, forse magari qualcuno conosce, non saprei che esempi fare, perché non so, se ho avuto poi nell'underground, o meno, e, e quindi, insomma, molto quello, sto scrivendo parecchio, sto scrivendo tanto, facendo parecchio, perché poi, in particolare questo, cerco di finire sempre ogni traccia che comincio, che può partire da un giro di chitarra, da un giro di basso, da un giro che scrivo, e cerco sempre di finirla, perché il modo migliore per imparare a fare questo genere di cose, è sempre farle, farle, sbagliare, rifarle, quindi ne sto, ne sto approfittando molto in questo periodo, poi, ovviamente ci sono anche le attività ludiche, gioco alla Playstation, non solo quando streamo, giustamente, e poi ho adottato un cane a maggio dell'anno scorso, quindi, bellissimo tra l'altro, guardo le storie, bellissimo, e poi è un cane molto attivo, quindi capita che andiamo a correre, giriamo, facciamo almeno una volta ogni due giorni, cerco di portarlo a fare un giro lungo, perché poi, poi siamo stati fortunati entrambi, perché abbiamo trovato entrambi un compagno di, come si dice, di spuntini di mezzanotte, perché magari lui è lì che sta dormendo, io ero già a lavorare fino alle mezzanotte, salgo, mi guardo una roba in stile, mi mangio dei crescini, lui si risveglia, improvvisamente, quindi abbiamo dei compagni di spuntini entrambi, quindi è stato fortunato, tanto quanto me, che bella cosa, che bella cosa, e basta insomma, queste sono un po' le, le cose che faccio, le tue attività, sì sì, poi appunto noi siamo ancora fortunati, perché comunque capita ogni tanto, che ci siano situazioni, in cui dobbiamo andare agli studi Rai di Roma, ti svaghi un po' anche solo, sì sì sì, sì esatto, e basta, il progetto appunto, di cui stavamo parlando poco fa, è il progetto Nairobi D, che appunto è il tuo, la tua carriera da solista, appunto, e da come è partita, come mai, cioè, probabilmente da un'esigenza anche di fare cose tue, non solo legate a gruppi, a cose, insomma, parlami un po' come è nata, quando ti sei, dimmi un po' come, come ti è venuta, insomma, visto che avevi già comunque delle cose in ballo, sì, allora, questo progetto qui, è nato prima che entrassi nei pinguini, credo l'anno prima, ed è nato non tanto da un'esigenza di fare cose mie, dal punto di vista, voglio esprimermi, perché mi sento è, ma voglio esprimermi perché non ho occasione di farlo, nel senso che, ho, 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 ho cercato band proprio assiduamente in tutto il periodo dell'adolescenza, alcune le avevo trovate, ma alcune facevo un po' fatica, perché comunque, soprattutto nel periodo dopo, dopo l'esperienza con la TV Band, era tutto un, ah sì, ok, noi lo facciamo, però comunque c'ho il mio lavoro, che è lecito, però comunque io, cioè in generale, io se devo fare una cosa, cerco sempre di arrivare fino in fondo, e metterci il 110%, quindi se dall'altra parte non c'è questo interesse, non giudico, ma in maniera lecita, allora non, non ne vale la pena che le nostre strade vadano avanti, certo, mi sono avvicinato, mi sono avvicinato molto a questo mondo, perché ho scoperto, che ci sono dei performer, dei musicisti, dei produttori, che scrivono, compongono, e registrano, e soprattutto suonano dal vivo, da soli, e come l'ho scoperto, allora, prima cosa, mi sono avvicinato alla musica elettronica, diciamo, sempre durante le dossi di Peppers, che sono sempre stati un po' il mio, il mio esempio, anche loro hanno fatto un sacco di cose, quando il chitarrista uscì dalla band, iniziò a fare un progetto di musica, che poi lì andiamo sul Django, l'Acid House, che non mi piace, però comunque ho detto, ok, va bene, allora c'è anche questa cosa qui, e poi a proposito dei Kings of Convenience, c'è un disco loro, che ho scoperto dopo, che è un disco di remix, quindi anche il concetto di remix, figo, cos'è, e c'era questo artista, che mi aveva colpito più di tutti, che si chiama Fortet, è un artista, che ha collaborato anche con Tommy Ork, dei Radiohead, ha collaborato con Nelly Furtado, ha collaborato con Ariana Grande, gente di poco conto, mi stai elencando comunque, che è un artista che comunque forse rimane un pochino underground, perché fa musica strumentale, però fa musica strumentale bella, sono andato poi a ascoltare, e a vedere i suoi live, e lui proprio suona da solo, dal vivo, con l'ausilio ovviamente del computer, e lui è un artista britannico, di origini indiane, e quindi c'ha questo mix fra Dramashin, e, non so, kalimba, bonghi, voci, cori, particolari, e da lì poi ho scoperto tutto un mondo, di questi artisti qui, che comunque hanno veramente tanto, cioè vanno veramente tanto, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, ad esempio in Italia ci abbiamo dei festival, che fanno questa cosa, ad esempio il Club to Club, che è un festival che fanno a Torino, che è gigante, io sono ignorantissimo su queste cose, infatti ti sto ascoltando attentissimamente, perché purtroppo... anche ad esempio, qualche anno fa all'on festival, era arrivato comunque un artista, che si chiama Apex Twin, che è un artista storico, nel senso che lui fa musica elettronica dagli anni Ottanta, credo, ed è uno che proprio... cioè ti modella i suoni, perché oltre alla musica suonata, ci sono anche quelli che prendono dei suoni, che arrivano dall'ambiente, o da chissà che cosa, o da delle tastiere, e te li modellano, e lui ha una capacità di modellare i suoni, quindi mi sono avvicinato a questo mondo, ho iniziato a prendere tutto il necessario, e mentre studiavo appunto con il mio vecchio insegnante, ho conosciuto questo ragazzo, che anche lui faceva una musica elettronica un po' più particolare, in cui cantava anche, e mi fa, guarda, figo no? Bellissimo, comunque se fai queste cose qui, guarda che abbiamo un collettivo, che organizza eventi, che organizza cose di musica elettronica, alle Donne di Bergamo, che è un locale, che è appunto qua a Bergamo, che è un centro di aggregazione, il più famoso, credo a Bergamo, anche con la programmazione, che ci tiene molto alla programmazione, che ci tiene molto alle cose, e quindi, lì ho conosciuto, tanti altri artisti, e amici, che in particolare con due, sono rimasto tantissimo in contatto, che appunto hanno anche loro dei progetti musicali, uno si chiama Alessandro Gozzoglino, il progetto si chiama Chotz, e adesso è bergamasco, ma sta a Berlino, e lì sta facendo una carriera, veramente incredibile, tra l'altro ieri era live su Twitch, a fare il DJ set, però DJ set, gli ho scritto, io ti seguo solo, se poi fai un gameplay, con l'Union Berlin, in Bundesliga, giusto a me, sì, se no non c'è vero, scusa, e l'altro invece si chiama, Giacomo Corpino, Corpino, suo progetto, e che abita qui, nel paese accanto al mio, e collaboriamo spesso, abbiamo delle cose in uscita insieme, e insomma, ho iniziato a buttare giù delle cose, e ho fatto uscire delle cose, che appunto il discorso che facevamo ieri, poi riguardandoti indietro, dici perché le ho fatte uscire, però fa tutto parte di un percorso, cioè fai delle cose, che poi quando vai avanti, è una crescita personale, comunque se ci devono essere quegli step, per arrivare, meno male che guardandoti indietro, dici oddio perché, perché sennò vuol dire, che non c'è una crescita di gusto, di stile, di tutte quelle cose lì, e appunto dall'ultimo anno a questa parte, siccome ho lavorato, ovviamente con l'arrivo della vende, soprattutto fa il 2016 e il 2018, in cui abbiamo fatto veramente, una quantità di concerti bestiale, tipo 120 concerti in un anno, e qualcosa, non c'avevo sempre il tempo di stare dietro, per fare, però dall'ultimo anno a questa parte, un anno e mezzo circa, ho appunto ripreso in mano, e ho fatto uscire poi un singolo, con questa etichetta tedesca, che si è interessata, che inizialmente, tramite il mio amico che fa, guarda c'è questo amico che fa questo genere qua, se vuoi ti può interessare, io gli ho inviato una traccia, e lei mi fa, ok bello, figo questa traccia qua, magari inviammene un'altra, così vedo un po' il tuo stile, io ne ho inviato un'altra, e faccio, boh questa qua è una traccia che ho buttato giù, devo ancora finirla, no fighissimo, la facciamo uscire qua, e quindi ho fatto uscire, a settembre dell'anno scorso, questo EP, e insomma, mi sta dando un po' di soddisfazioni, perché comunque parti, con un genere, che già non è cantato, quindi è difficile da capire, magari, in certe circostanze, però sono arrivato a 50.000 ascolti, su una traccia, sono finito in parecchie playlist di Spotify, quindi... Tra l'altro se lo volete cercare su Spotify, appunto Nairobi D, di Spunzata, mi raccomando, se volete ascoltare cosa fa anche da solo, questo è il nick. Grazie, e quindi ho avuto un po' di soddisfazioni, poi appunto, adesso uscirà un remix, di un altro artista americano, primo remix che faccio di sempre, di un artista americano il 5 di marzo, e poi ci saranno delle uscite, con collaborazioni e uscite singole, nel corso dell'anno, credo che ce ne saranno almeno due o tre, però sono ancora tutti in fase di collocamento, perché ovviamente questo è un po' il momento, tutto quanto, i tempi si dilatano ovviamente, però ecco, pensiamo che appunto è nata, come dicevo prima, dalla voglia di poter fare qualcosa, quando non avevo occasione di farlo, e poi da lì è diventato una roba che, adesso uso, quando faccio le robe con la benda, mi piacciono un casino, le faccio, però c'ho questa cosa che è mia, comunque il gestisco, mi permette anche di fare delle robe con l'estero, perché io lavoro soprattutto con l'estero, e basta insomma, sto avendo le mie soddisfazioni, quindi sono contento, purtroppo non posso fare live in questo momento, come tutti, però comunque cerco di fare il più possibile, e appunto anche grazie al fatto che scrivo, produco, ho imparato bene ad utilizzare una serie di programmi, appunto da poi poterli insegnare ai ragazzi, che ne ho anche alcuni, appunto come dicevo prima, e basta, insomma nella speranza che poi un giorno, quando il canale sarà un po' avviato, e avrò le, di poter fare delle cose anche su Twitch, magari non lo so, produzione, come faccio questo, oppure a suono oggi faccio, ti aspettiamo a braccia aperte qua ovviamente, tanto hanno linkato il canale Spotify, bravo Beck, Grazie. Insomma, come vedete, un artista tutto tondo, il nostro boot, un'altra cosa appunto che ti volevo chiedere, sempre parlando di esperienze, una probabilmente, non so adesso, poi mi dirai tu, un'esperienza che è quella che poi vi ha fatto conoscere anche al grande pubblico, che poi voi avete, avevate già il vostro pubblico, bello consolidato, che avete, grazie ai live, ve lo siete tenuto stretto di anno in anno, ma appunto grazie al Festival di Sanremo, poi siete riusciti a prendere anche una, una fettona di, poi è stata una sfiga che, proprio l'anno in cui siete, tra virgolette, esplosi, è esploso anche il mondo purtroppo, però, insomma, come hai vissuto quell'esperienza? Innanzitutto, quando l'hai scoperto, quando avete visto che c'era questa possibilità, come avete reagito tutti quanti, tu in particolar modo, e poi, insomma, come, come era la vita lì, perché mi dicevi ieri, quando chiacchieravamo, che era bello, bello tosto, insomma, tutto, tutta, cioè, tutta la vita a Sanremese è bella tosta, dici un po', insomma. Allora, e vorrei partire con, di raccontarti non come l'ho, come l'ho vissuto io, l'avevo scoperto, ma come l'ha vissuta la mia prozia. La tua prozia? La mia prozia, cioè la zia di mia mamma, che poi considero mia zia. Giusto. Perché comunque, anche lei c'è sempre, insomma, cresciuti un po' da piccoli, e, insomma, sai, dire di fare il musicista, delle persone di una certa età, diventa un po' difficile, no? Alcuni riescono a concepirlo prima, tipo i miei nonni, ma la mia prozia, che è la sorella mia nonna, ha sempre fatto un po' fatica, tranne da dopo Sanremo, che anzi, adesso guai, tutte le volte che sono in televisione, però, il discorso è stato questo, scopriamo di andare a Sanremo, e io lo dico a mia mamma, guarda che andiamo a Sanremo, e mia mamma va a dire alla zia, e gli fa, sai zia che Nicola va a Sanremo? E lei risponde, a fare. Come a fare? Scusami. Va a fare. Ma zia. No, non vado al mare, vado a suonare la specie di Sanremo. Questo per dirti come, non con cattiveria, però, è difficile, cioè, è difficile da, magari, certe volte da concepire, e quindi, diciamo che c'è stata questa cosa, e tra l'altro, anche agli altri, è successa questa cosa simile, con i loro parenti, però c'è stato appunto, questo taglionetto, del fatto che comunque, alcune persone, hanno detto, caspita, allora questi, insomma, lo fanno veramente di lavoro, no? Quindi, è stato un po' questo, quello che è successo dopo. Sì, non si rendono conto al 100%, forse, finché non, non ti avvicini, alle cose che per loro sono il top, come appunto Sanremo, la tv, su queste canzoni, cose così, le riviste, che non è, non è una cosa cattiva, semplicemente, è un voler bene tantissimo all'altra persona, da dire, ma sei sicuro che puoi farlo, ma non ti conviene magari fare l'operaio, o l'altro lavoro, e poi durante il weekend suonare, e faccio, boh, cioè, non lo so, io, faccio così, perché per ora sta andando, e cerco di impegnarmi sempre, e, e io l'ho vissuta che, semplicemente, ci stavamo sentendo nel nostro gruppo, con la band, e guardate ragazzi, che andavamo a Sanremo, allora, cioè, abbastanza, era, boh, un po' anche di paura, di tensione, che dici, caspita, cioè, l'Olimpo della musica italiana, cioè, sarò in grado, riuscirò così, e, ovviamente, a mordersi la lingua, per non dirlo a nessuno, dei tuoi amici, perché, ma, quando è che andate a Sanremo, sarebbe bello vedere, che a Sanremo, eh, sì, sarebbe bello, vedere, ci sarebbe, eh, sapessi quanto sarebbe bello, oppure, oppure, quando, mi ricordo un mio amico, eh, che è arrivato a dire, secondo me, quest'anno, secondo me, andate a Sanremo, cioè, io te lo dico, andate a Sanremo, boh, non lo so, vediamo, potrebbe essere, ti cecchinano, appena dici qualcosa, che non puoi dire, e poi, quando poi c'è stato l'annuncio, che era, credo, la serata di, dell'epifania, credo, eh, il, il 6 di, tanto sul telefono quasi scarico, eh, il 6 di, se vuoi, non so, dimmi tu se ti vuoi spostare, aspettiamo un attimo, dimmi tu, insomma, va bene, intanto, intanto un attimo, andiamo, finché non mi dà il 10%, poi il massimo più spostiamo, eh, allora, eh, stavo dicendo che, sì, eh, quando poi, appunto, è stato annunciato, allora tutti che, ah, che bella la Tassarremo, così, eh, e poi c'è stata tutta una preparazione, ovviamente, nelle settimane prima, in cui, c'è, quando vai magari a, a fare le foto, quella, la famosa foto, quella sulla, sulla piramide, dove ci sono tutti gli artisti, e, e poi anche, abbiamo conosciuto poi, l'orchestra, quando abbiamo, abbiamo provato, poi anche, deve essere una roba incredibile, cose, sì, tra l'altro anche il nostro, il nostro direttore d'orchestra, che è Enrico Melozzi, che saluto, con grande affetto, che è una persona, veramente incredibile, ci siamo trovati benissimo, super professionale, e, veramente, umanamente, una bellissima persona, e, e poi, insomma, quando poi è arrivato il momento, di arrivare lì, a Sanremo, che credo che siamo andati lì, due giorni prima, se non sbaglio, perché ci sono poi, le varie inaugurazioni, le cose, boh, è incredibile, cioè, vedi, un sacco di personaggi, conosci tanta gente, sì, colleghi, poi con alcuni, avevamo già avuto occasione, di conoscerci, e, e quindi è stato bello, anche rivedersi, questa cosa che, insomma, qualcuno ti vede, e dici, boh, figura ti si ricorderà, invece arriva, ti saluta, mi ricordo Nigiotti, che era arrivato, mamma, Nigiotti, io impazzisco, anche per Nigiotti, lo sai, e quindi era, era, era stato molto bello, questa cosa qui, o anche, ad esempio, le vibrazioni, in particolare, appunto, loro che sono, sì, beh, sono band, quindi, era stato molto bello, e da lì, entri in un flusso, allucinante, nel senso che, Sanremo, praticamente, quando c'è il festival di Sanremo, c'è solo il festival di Sanremo, certo, nel senso che, c'è una quantità di gente in giro, una quantità di cose da fare, incredibile, ci sono diversi alberghi, diverse postazioni, e in ogni postazione, ci sono, ad esempio, non so, una radio, piuttosto che, e quindi, praticamente, le tue giornate sono, ti svegli al mattino, trucco, preparazione, vestiti, cose, poi parti, e, giri, continui a girare, fai interviste, apparizioni, cose, eh, e, che poi anche lì è stato molto bello, cioè, finire in certe trasmissioni, che, boh, che, perché sono con la veniere qui, cosa sta succedendo? Sì, esatto, esatto, cioè, è stato molto bello, è stato molto, molto divertente, però, appunto, è un flusso infinito, di cose, continui, cioè, a volte, magari anche nella pausa pranzo, hai dieci minuti per mangiare, perché poi devi ripartire, e quindi arrivi poi a fine giornata, che non è finita, perché arrivi alle cinque del pomeriggio, vai a casa, hai mezz'ora per preparare, per rilassarti, e poi parti subito con il trucco, e ti prepari per la sera, e, però ecco, vivi ovviamente con la strizza, quando devi suonare, soprattutto la prima sera, e la serata delle cover, che noi avevamo scelto di fare il medley, e c'era un po' di tensione, bellissimo tra l'altro, che girava, grazie, è andata, è andata tra l'altro, secondo me stra bene, quell'esibizione lì, cioè, io mi aspettavo, ho detto, adesso spaccano, ma, è stata forse la sera in cui, ho detto, porca miseria, cioè, stanno veramente dando un bel biglietto da visita, a chi non li conosce, perché noi vi conoscevamo già, certo, veramente un gran bel biglietto da visita, ma poi hai conosciuto Ronaldo anche, c'era lì Ronaldo, che continuava a ridere, tra l'altro, cioè, noi siamo saliti sul palco, e c'era lui che rideva, guardandoci, sei scemi, vestiti in sei colori diversi, chissà cosa, però sì, non l'ho conosciuto di persona, però l'ho visto lì davanti, e ho anche incrociato Benigni, attenzione, che è stato un onore incredibile, perché mentre lui scendeva, noi salivamo sul palco, quindi è stato molto emozionante, che poi Benigni a me fa impazzire, ovviamente, come immagino a tutti, e, fin quando non strizza i marroni alla gente, che poi magari diventa un po' particolazzo, ma diventa... Vabbè, so, a parte anche quello... Certo, certo, sì, sì, però sì, effettivamente anch'io, non sei il primo come lo dici, che dopo quella sera lì del medley, è cambiata un po' la percezione nostra, fra il pubblico, avete proprio spaccato, sai quando si dice, di solito si dice, l'avete spaccato, ma si dice anche un po' per dire delle volte, sì, no, secondo me è proprio, c'è della gente che secondo me, in quel momento guardando, vi ha detto, cavolo, questi sanno fare quello che stanno facendo, non sono dei pirletti, quindi insomma, ottimo, onore e voi. Grazie. Cos'è che stavo dicendo? Che... Sì, vabbè, comunque, dopo quella... Ah sì, ecco, a proposito di quella sera lì, quando... Mi ricordo che avevamo passato la notte, qualche giorno prima, con appunto Paso e Simone, a ripassare la parte, anche insomma, con loro due in particolare, poi se non aggiungi anche gli altri, a ripassare la parte, avevano tirato le quattro a suonare, sai quelle cose proprio belle, no? Sì, sei in albergo, sei tesissimo, sei preso male, però comunque sei lì con gli altri, che ripassi la parte strumentale, e sei un pochino più tranquillo, cioè... Perché siete anche tanti, tanti amici, quindi riuscite a... Esatto, riusciamo a tranquillizzarci l'un l'altro, perché comunque magari c'è quello che ha l'attacco d'ansia, e l'altro che dice, vabbè, ma c'è easy, quello devi stare... Oppure quello che è troppo easy, che l'altro gli dice, te, forse è il caso di un attimo di preoccuparsi un po' di più di questo sito. E quindi mi ricordo con molto piacere questa cosa qua. E cos'è che volevo dire? Basta, poi vabbè, c'è stato poi la serata finale, quando hanno iniziato a scorrere tutti i nomi. Ventesimo posto, ventesimo, diciattese, quarto posto... Caspita ragazzi, non ci siamo! Siamo tra i primi tre. Cosa facciamo? Cioè... Siamo davanti! E lì, oltre all'emozione di essere comunque degli underdog, per usarla come un termine calcistico, c'è dei... dei nuovi, c'è dei nuovi, su cui nessuno avrebbe scommesso. Essere arrivati così in alto, già è stato... è stato bellissimo. Però allo stesso tempo, c'era anche quella tensione, che è un po' strano, però c'era, del dire, ma come cambierà la mia vita? È certo! Se vinco Sanremo? Sì, sì, sì. Già cambierà. Perché comunque già cambierà la mia vita, drasticamente. Ma come cambierà se, a maggior ragione, arrivo primo? E c'era questa tensione visibile sui nostri volti, che non era per forza una cosa brutta, però c'era. E... da lì poi appunto siamo arrivati terzi, e poi è successo appunto che... è successo quel che è successo. Però in quel mese lì, insomma, abbiamo iniziato a fare un po' di cose, c'era veramente tantissima affluenza, tantissime persone, più di quelle che ovviamente avevamo prima. Però insomma, è stato molto bello. Poi anche con Diodato e... in Gabbani appunto, questa cosa dietro al palco, che ce la contavamo su, no? Ah, vici te! Ah, no, vici te! Aspetta che... Un po' di gufate, un po' di gufate, dai. Sì, sì. Ah, dai ragazzi, che caldo, però guai, dai, quanto ci mettiamo? Perché siamo rimasti dietro un po' a aspettare. Però è stato bello, E anche adesso, tra l'altro, quando ci capita di... capita che ci rivediamo, tipo l'estate scorsa abbiamo fatto... eh... battiti live, tipo che questo evento, ecco, c'era... in Puglia, mi pare. Sì, 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 c'era Diodato, che sembravamo tutti in questo resort insieme, e Diodato che è arrivato mentre stavamo giocando a carte, si è messi a parlare di calcio, perché lui è giuventino, tra l'altro. Ah, vedi. Quindi, boh, è bello. Poi anche con... con Gabbani appunto, ci vediamo. Abbiamo stretto tante amicizie, quindi è stato... è stato molto bello, anche con Elettra, con Elodie... Simpaticissima a lei, sembra, veramente. Sì, 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 veramente, sì. E... insomma, abbiamo mostrato tante amicizie, è stato molto bello, è stata un'esperienza molto bella, e non so se la rifarò in futuro, se la rifarò bene, se non la rifarò, comunque il mio... cioè, la mia esperienza non la sono fatta, e comunque... comunque va bene così, perché poi comunque il mio obiettivo nella vita è fare questo di lavoro. Certo. Quindi... E anche... è sempre pane questo alla fine per voi, quindi... Esatto. Esatto. Allora, dimmi tu, io ho qualche altra domandina, ce l'ho. se vuoi andare in un altro posto, magari a caricare il telefono, dimmelo, così stiamo insieme un altro pochino. Sì, 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 facciamo un attimo Vorrei parlare anche di Twitch per quello, insomma. Facciamo un attimo una pausa, mandiamo la pubblicità, ma torniamo subito. Bravissimo. Arrivo proprio così. Vai, vai, vai. Corri. Grazie. A fra poco. A fra poco. Allora, intanto rimango qui da Discord, tanto che problema c'è. Amici, adesso, mentre aspettiamo il buon Nicola, dopo facciamo anche qualche domandina dalla chat. Intanto volevo ringraziare, io non so, purtroppo non ho sentito le donazioni, però... Vabbè, ringrazio Arti, Lorgiu, Dez Lab, Ponzio, non so questi, non so se eravate già in questa live o erano già prima con Moro, però insomma vi ringrazio, Arnosto, Mino Focaccino, tutti quelli che, non so se erano appunto da Moro o l'avete fatta adesso, in ogni caso vi ringrazio anche solo per essere qua, amici. Io sono in adorazione. Io sono molto contento di averlo portato sul nostro canale, perché come vedete è un personaggio, a parte lui che è simpaticissimo, ma poi non tutti i giorni hai modo di parlare con persone che hanno fatto questi tipi di esperienze, quindi sono molto emozionato, ma nel senso... cioè, non emozionato nel senso... No, sono molto easy perché è una persona molto easy, però è... sono comunque molto contento, ecco, di portare anche queste cose sul nostro canale. Spero ce ne saranno anche altre in futuro. e insomma, comunque, tenetevi qualche domandina intelligente, mi raccomando, adesso che torna e leggiamo anche cose della... domande vostre, insomma. Ogni tanto vi leggevo, cioè io vi ho sempre letto, sempre tenuto d'occhio, quindi ogni tanto buttavo l'occhio di qua. Da una Tribute Band in giro per il mondo a Sanremo non è il primo pistola che passa. No, no, assolutamente no. Che intervistatore professional? Ma in realtà, come vedete, è bastato poco, è partito, lui ha raccontato tutto, veramente una persona piacevolissima. Poi stiamo anche chiacchierando anche fuori live, per quello eravamo anche un po' più sciolti perché stiamo parlando anche fuori live, eccetera. Giuseppe, grazie mille per i 100 bits. Non so che dire, mi sto emozionando tantissimo e sono felice per il tuo e il suo traguardo. Si vede che siete persone fantastiche di cuore. Giuseppe, grazie mille. Grazie mille. Intanto le donazioni le posso anche risbloccare adesso, gli alert. si vede che c'è anche un certo feeling, avete caratteri simili e vi trovate bene. Bravo tu, lui veramente fantastico, assolutamente. No, no, sì, ci troviamo molto bene, anche, stiamo trovando molto bene, è una persona molto piacevole. Mara e storia ormai, intendi, in che senso? Al locale ho il vinile dei pinguini, sono felice di conoscerlo meglio. Bene, bene, sono contento. Amici, aspettate un attimo che faccio la pipì, adesso vedi che mi chiama, torno in chiamata e non ci sono più, però no, non posso fare la pipì, ragazzi, non la farò. Marco, devi cantare una canzone con loro, ma perché dovrei fargli fare questa brutta figura a loro? Adesso sono tutti a fargli complimenti e lui non torna, no, ma riferirò, dopo, riferirò. Vado a Saremo anche io, certo, ho questo duetto con la Lamborghini che uscirà a brevissimo, la canzone si chiama Elettra, Elettra Lamborghini, proprio questo è il titolo della canzone. Vogliamo una mini collab, magari, a livello musicale, io faccio quello che vuole, però devi muovere le chiappe anche tu, sì, sì, ma io twerco, canta lei, io twerco, ma solo io ho notato che Mark non ha sbagliato una parola oggi, ma forse qualcuno l'ho sbagliata, no, mi sembra strano che lo dette tutto è giusto. Voglio polpette fit pinguinitati nucleari, va bene. Avevo scritto che non dovresti i candidati pinguiniti che mares, ah beh, certo, certo. Faccio i grazie Moro per lo spam della live, che non ho fatto in tempo prima perché stavo, ero già con lui, stavamo già sistemando le ultime cose, poi ovviamente siamo partiti live e qualcosa non ha funzionato, perché per forza, però fortunatamente abbia risolto easy. Forse, perché prima della live, come al solito, con queste cuffie che devo cambiare, le voglio cambiare, c'è qualche soldino su Amazon, le cambio, queste cuffie, perché mi sono rotto le balle, al di là che mi fa male in testa, ma peruzzano, di tanto in tanto devo staccare, riattaccare, mi sono rotto le scatole, e si vede che prima della live, siccome sentivo peruzzare la live di Moro, ho staccato e riattaccato per sistemare, come sempre, niente, come al solito, ha rotto tutto. Io devo andare a fare la pipì, come faccio, ragazzi, non posso, se questo torna, poi è brutta figura, io devo fare il padrone di casa, eh, non si può fare questa cosa qui, eh, capito? se torna c'è Dixie, però, la faccio nella borraccia, come faccio, ragazzi, devo fare pipì? Ma la bottiglia è piena, se ancora c'è acqua, cosa fa, il piccio den, ma che non si fa, dai ragazzi, che discorso, insomma. Comunque ragazzi, adesso, la seconda parte, seconda parte dell'intervista, tra virgolette, seconda parte, anche perché, non lo voglio tenere troppo, anche se, come vedete, potremmo andare avanti veramente per ore, che è successo? Ah, è caduta la chiamata, giustamente, aspettate un attimo, aspettate un attimo, eccomi qua, giustamente è caduta la chiamata, vado in bagno, a sto punto, tanto non può tornare in chiamata, quindi corro, ci metto un attimo, eccomi. grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Purtroppo il bagno è occupato come al solito. Intanto vediamo se... Ah, allora, aspetta che richiamo il bombutta. Ci rimettiamo di qua intanto. Eccoci caro, aspetta che ritorno alla schermata di prima. La qualità purtroppo sarà un po' più bassa, però... Ah, aspetta che c'è la mia live che... Adesso tolgo anche i suoni per sicurezza. Andiamo qui e ovviamente adesso... Facciamo così, così mi vedi pure tu. Eccoci qua. Eccoci qua, tornati. Eccoci qua. Tutto bene? Tutto a posto? Alla grande, alla grande anche qua. Ho cercato di fare il meglio per far uscire bene. Tra l'altro lui ha un'attrezzatura della Madonna, solo che non so perché gli dava problemi con Discord ieri e quindi purtroppo... Eh, sì, sì. Soprattutto audio, però vabbè. Allora, no, vabbè. Non ti voglio tenere troppissimo. Adesso facciamo le ultime domandine, anche perché ci tenevo a parlare della parte... Della seconda parte, no? Chiamiamola la seconda parte dell'intervista, perché insomma sono... Sono le robe anche che mi premeva far conoscere alla chat e a chi non sa che stai facendo queste cose. Uno su tutto appunto i tuoi video... La passione per i videogiochi, che anche tu hai. Anche quella lì ti volevo chiedere come è nata e magari se hai dei titoli preferiti, qualcosa... Qualche videogioco a cui sei particolarmente legato. Ok. Allora, ovviamente la... Cioè, ovviamente la passione per i videogiochi è nata... Quando ero veramente, anche lì, molto molto giovane, perché mi ha regalato una PlayStation 1, quando andavo alle elementari. Quindi, ovviamente, i vari Crash Bandicoot, Spyro, 1, 2, 3... Tanto c'è Elio in chat, che salutiamo, anche lui... Ah! Che anche lui, tra l'altro, ha intrapreso questa carriera. Esatto. Grande Elio. Ci siamo improvvisati streamer entrambi. Insomma, ho iniziato... Appunto con la PlayStation 1 a giocare i primi giochi, tra cui anche FIFA 98, tra l'altro, perché, ovviamente... Ma mai... Che è... Credo che sia il gioco di FIFA più bello mai fatto. Sì. Io sono anche affezionato al 2000. Anche il FIFA 2000 è stato uno di quelli che c'era affezionato. Io usavo sempre l'Arabia Saudita. Ti dico questa parola. Non so perché. Mi piacevano le maglie. Le maglie, ci sta. Tra l'altro, forse, in FIFA 98 era quello dove c'erano proprio tutte le squadre possibili. Io mi ricordo che c'erano le Vanuatu, tipo, di squadra. Le isole Cook, le isole Fiji. Io giocavo sempre, anche io giocavo spesso con quelle, San Marino anche. E se scrivi in Caps, la chat è molto severa, ti chicca, ma è tutto a posto. Non siamo noi che lo facciamo. Ti vogliamo bene e ti amiamo anche a te. Dai, biffo quanti errori, però, che fai. No, poveri. Ho veramente un sacco di errori. Adesso che iniziamo un'intervista anche con lui. Comunque, sì, no, FIFA 98, quindi comunque sempre inerente al calcio, che è la passione che c'hai. Sì, 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 certo. E poi comunque ho giocato veramente a tanti giochi per la PlayStation 1. Tipo, mi ricordo c'era questo gioco che si chiamava Rosco McQueen, ed eri tipo un pompiere americano, con questa voce, andiamo a salvare la gente. C'era questa voce un po' particolare, e devi combattere contro dei robottini che questi bastardi sparavano il fuoco per così, per bruciare le cose, no? Insomma, per la PlayStation 1 ho giocato veramente, veramente tanto. Adesso non ricordo... Vabbè, Tekken 3 anche, che ritiriamo sempre fuori quando siamo con la band e ci ricordiamo tutti i personaggi. Con quei giochi che in gruppo ti ci spacchi. Sì, esatto, esatto. E poi, insomma, dopo un po', però, ho smesso di giocare alla Play 1 e sono passato al computer, però molto poco al computer. C'è qualcosa, magari, di strategia, tipo, non so, Age of Empires, piuttosto che... Avevo anche Unreal Tournament, che non è di strategia, e poi avevo questo, che ce l'ho ancora. Ci mostri, ci mostri. PS2000... Ma tra l'altro, questo PS è quello dei mondiali, quello che poi abbiamo vinto i mondiali. Io ce l'avevo per la... Forse ce l'avevo addirittura per il Game Boy, pensate, questo qua. Sì, 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 quello con Tony, tra l'altro... Che te e Tony, infatti, in copertino. Tra l'altro, fai molta attenzione a cosa c'è scritto qua. Non so se si vede. No, non si vede. C'è scritto, affronta utenti PlayStation 2 online. Attenzione, attenzione. La grande novità del... Comunque, questo era stato un piccolo, perché ci avevo giocato un casino, perché era il PES, quello famoso per Adriano, per Adriano, che tirava le bombe da fuori area. Quando PES ancora effettivamente era l'innovatore, perché poi adesso ormai FIFA... Sì, esatto. FIFA ormai è per la maggiore, ma c'è stato un periodo, ve lo ricordate sicuramente anche in chat, che PES effettivamente metteva cose belle nel gameplay e ti faceva venire voglia di giocarlo. Era quello... Cioè, c'era PES e poi dopo anche FIFA, ma c'era PES prima. Adesso si è ribaltato ormai da, penso 2012, anche con Ultimate Team, comunque tutte quelle cose lì, FIFA ormai è andato per la maggiore. Anche per la carriera, c'è essere un giocatore soprattutto della carriera e la carriera di FIFA, soprattutto il 21, che ti permette di fare un sacco di cose extra, tipo il prestito con il riprendimento di scatola, con un po' da... Bellissima quella cosa. C'è, strabello. Quasi da football manager, quelle cose lì sono quasi da football manager. Esatto, arrivano, ti chiedono, non so, al Papu Gomez e ti danno Saponara, cioè cose così, no? È una cosa super... E quindi diciamo che il videogaming ha fatto parte di me per parecchio. Poi dopo l'ho un po' abbandonato nel corso degli anni, perché avevo suonato e avevo fatto cose. Poi c'avevo questa cosa che mi era rimasta in sospeso, che dovevo comprare FIFA e quindi dovevo, anche con mio fratello, poi c'è anche lui super appassionato, anche lui super appassionato di giochi, dovevamo fare questa cosa e quindi mi ha preso la PlayStation 4 ormai tipo tre anni fa e lì mi sono riappassionato scoprendo dei giochi che sono diventati dei capolavori tipo The Witcher 3, che è un capolavoro, tipo Fallout 4, tipo The Last of Us, tipo Days Gone, siamo tutti questi giochi qua e tra l'altro l'ho preso recentemente un po' in ritardo per Order of the Redemption 2, semplicemente che io li prendo e poi mi terranno occupato per anni perché ci gioco una volta ogni tot, ogni settimana, quindi faccio così e ho riscoperto veramente c'è una passione perché alla fine cioè è bello, sei lì, c'hai il tuo mondo, poi lo sai meglio di te, cioè meglio te di me, c'hai il tuo mondo, c'hai le tue cose, quindi insomma ho riscoperto questa passione e poi appunto tornando al discorso di prima dei forum, anche andare a cercare tipo ah esce questo gioco forse uscirà che magari ci sarà una riedizione una remaster è una roba che ho sempre fatto e giravo i forum anche per quello e insomma mi è sempre piaciuto parecchio beh a parte il fatto che devi assolutamente giocarti gli Uncharted perché io sono devo assolutamente consigliargli a chiunque cammini e respiri sono dei capolavori visto che ti è piaciuto della stofasi il gameplay è sempre loro perché è sempre della Naughty Dog quindi te lo consiglio avevo visto dei gameplay tempo fa di giocatori americani c'è stato un sbaglio che giocavano con quelli senza commento tipo avevo visto tipo il gameplay del 4 4 il 4 è quello che c'è su PS4 quello che è uscito ecco ecco che tra l'altro se non sbaglio durante la quarantena avevano regalato gratuitamente i primi due o primi tre se non sbaglio forse c'era addirittura la trilogia o forse tutti e quattro addirittura regalati sì è vero comunque sì volentieri si giocherà anche mio fratello ma lo dice sempre che molto bella la storia e diciamo che lo dicono sempre quando si parla di Uncharted è un Indiana Jones è un po' come se giocassi a un Indiana Jones quindi è molto molto bello che poi non so se hai visto ma uscirà anche il film sì con Tom Holland tra l'altro come attore che esatto tanta roba tanta roba tanta roba e ricollegando cioè gli ho chiesto dei videogiochi un po' perché il mio canale è di videogiochi e un po' perché appunto anche lui adesso si è buttato su Twitch come anche Elio che era prima in chat e e lo sto ti sto seguendo perché sono sempre lì quando posso anche se magari sto facendo altro ti tengo secondo schermo guardo le tue imprese con lo Spezia e le altre squadre tra l'altro il prossimo sarà col Verona mi pare con l'Elas Verona sì che ha votato queste challenge in cui va in Champions League ci sono ancora scusa e e appunto è sbarcato anche lui su Twitch si chiama Superbuttolo se volete followarlo sta facendo gameplay appunto sta facendo queste mini challenge su FIFA in cui prende una squadra diciamo medio piccola e prova a fargli vincere la Champions o comunque a fare il risultato migliore possibile in Champions ma anche di altri giochi quindi un po' dimmi un po' come ti è venuto in mente di entrare anche a te su Twitch detta così sembra quasi come pazzo ma sei pazzo ad entrare su Twitch no nel senso cos'è che ti ha fatto scattare quella cosa lì uno che sceglie di fare musicista già è pazzo di per sé quindi aggiungere una pazzia in più perché no teniamoci impegnati no allora appunto immagino come molte persone che decidono di avvicinarci a questo mondo è semplicemente è perché appunto il voler per i soldi ovviamente per i soldi i numerevoli soldi che arrivano e per insomma per conciliare il fatto che comunque mi piace giocare ma allo stesso tempo mi piace avere insomma avere delle persone insomma che mi servono intrattenere parlare con le persone e anche far appassionare magari determinate persone che il calcio non lo masticano proprio mai far appassionare un po' questa cosa qua ad esempio ho iniziato poi siccome anche delle telecronache tutte tue esatto le storie di provincia a me piacciono molto le storie in cui si parte dal basso e si arriva in alto non vado a fare la Champions o la carriera con il Bayern Monaco che va bene allora sti cazzo vince c'è bravo vinto la Champions con il Bayern Monaco vado a prendere le squadre non proprio di prima fascia insomma ed è più divertente anche così sì esatto è più divertente perché poi se arrivi ad esempio come settimana scorsa che sono arrivato con il Benevento ai quarti è anche divertente molto invece come l'altra sera con la spalla che ho preso tipo 26 gol purtroppo è andata male però comunque ci sta adesso sto facendo soltanto la domenica sera però vorrei cercare di ampliare magari portare altri giochi su cui sono una chiavica ve lo dico subito tipo Fortnite o anche Afex adesso ti faccio appassionare adesso ti faccio appassionare anche da adesso invito anche tu appunto e poi insomma ho in mente un po' di altre cose che vorrei fare anche di chiacchiere su cose che potrebbero essere interessanti non solo musicali anzi prettamente non musicali ma di altre cose su passioni che ho di amici così però devo ancora un po' capire bene il settaggio le cose però se volete seguirmi scoprirete anche questa cosa che secondo me è molto interessante esatto followatelo followatelo abbiamo messo anche il link in chat perfetto grazie ovviamente questo di fifa ne inventano sicuramente altri tra l'altro ti hanno regalato la sub al nostro canale ah vabbè adesso hai anche la sub al nostro canale grazie thunder tra l'altro grazie all'host di rosa comunque grazie mille all'host di rosa poi vi ringrazio tutti per bene tutti quanti molto gentili molto carini lo invitiamo su formula 1 sì sì noi facciamo il nostro campionato di formula 1 ti invitiamo anche ah va bene ma io adesso spero che infatti facciamo qualcosina al di là di questo molto più easy più tranquillo facciamo qualcosina assieme giochiamo anche per i fatti nostri adesso vediamo lo introduciamo nel mondo sì 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 si può fare io non vedo l'ora di perdermi via anche per esci oggi no non esco perché è due anni che non esci di casa eh va bene saranno quattro allora molto bene allora la domanda più piccantina che ti volevo fare oggi quasi quasi te la lascio alla fine che era quella di cui abbiamo parlato ieri ovviamente non la faremo ampia come abbiamo parlato ieri però te la voglio fare lo stesso perché è una cosa che mi è bello anche che è anche un bel messaggio da passare ai fan diciamo in generale anzi guarda ti dico te la faccio adesso poi chiudiamo col fantacalcio così lasciamo il fantacalcio per ultimo gioie e dolori gioie e dolori soprattutto dolori per quanto mi riguarda adesso vediamo termosifon ad onore mi scrivono già in chat allora questo invece è ricollegato appunto anche per chiudere la questione pinguini e musica cosa ne pensi di chi ti dice chi vi dice appunto che non fate più la musica di un tempo perché è una delle cose che soprattutto con l'ultimo album ovviamente perché dopo Sanremo c'è la classica cosa e adesso dopo Sanremo commerciali si è più più rivolti a fare quello insomma le cose che si dicono sempre quando un artista magari piccolino diventa più grosso e il pubblico tanto affezionato magari che vi segue dalle sagre o da altre da delle realtà più piccoline magari punzecchia un po' come la prendete voi come la prendi tu insomma dimmila tu allora io personalmente come dicevo prima anche per quanto riguarda il mio progetto che chiaramente siamo su due campionati diversi però cioè se io guardo le cose che ho fatto cinque anni fa non mi ci rivedo più magari in certe cose oppure semplicemente crescendo si imparano cose diverse si vivono esperienze diverse si si hanno degli interessi diversi si hanno si cresce si si diventa delle persone adulte comunque o meglio si dovrebbe diventare delle persone adulte e quindi di conseguenza anche le canzoni fanno parte di questo percorso alla fine il percorso la carriera è anche un percorso artistico ok percorso artistico umano di cui fa parte la realtà di tutti i giorni quindi se determinati artisti non è che cambiano semplicemente quello doveva essere il loro flusso cioè prima una volta si facevano determinate cose e invece andando avanti con il tempo le cose possono cambiare gli interessi possono cambiare poi si studia anche ci si ispira con tanti artisti con tante realtà diverse i tempi cambiano quindi non è per forza una cosa negativa il cambiare anzi vuol dire che c'è stata appunto una crescita soprattutto personale da parte dell'artista quindi poi appunto le canzoni sono sempre lì quindi comunque in generale le canzoni vecchie si possono ascoltare si possono però secondo me il bello di un artista è che si evolva nel tempo che possa evolversi nel tempo e riuscire a dire sempre un po' quello che pensa quello che vuole sempre con anche con modi e metodi diversi quindi è un po' questo quello che è il senso fa parte di un percorso che è il percorso artistico che nella carriera di un artista di solito c'è sempre ed è importante secondo me che ci sia ne parlavamo anche ieri nel mio piccolo che tu mi dicevi un po' come tu quando guardi cose che hai fatto vecchie ci sono certe cose che facevamo noi magari anni fa che anche noi adesso diciamo ma cosa dicevamo ci può stare poi ovviamente l'impronta di una persona di un artista rimane anche in quello che fai dopo ovviamente perché tutto quello che è stata la tua vita il tuo percorso musicale rimane appunto nelle cose che fai quindi insomma questa era la domanda quella un po' più piccantina che ti volevo fare perché soprattutto con l'ultimo album ho visto un po' più di pubblico scaldarsi per queste cose qui certo ma comunque non si rinnega non è che si rinnega nulla assolutamente nelle canzoni vecchie alcune le suoniamo quelle che ci siano più adatte le suoniamo le modifichiamo un po' anche magari dal vivo quindi non è assolutamente un rinnegare ma semplicemente è un ok il passato c'è ci stava ci ha aiutato per quel momento ci aiuterà sempre ma adesso è anche giusto appunto provare qualcosa di è come se un attaccante segnasse solo di testa e facesse cose solo di testa ogni tanto si accorge che può usare anche i piedi maturando esatto allora quindi accantonato un po' questa piccola domandina piccantina che poi in realtà era molto easy insomma anche perché in ogni ambito ci sarà sempre qualcuno che in maniera costruttiva ben venga e anche in maniera purtroppo non costruttiva interviene quindi si avranno sempre in ogni ambito queste situazioni qua ti chiedo appunto del fantacalcio come sta andando innanzitutto diciamo che tu sei un giocatore ormai da tempo che fa no con la testa immagino sei un giocatore da tempo del fantacalcio sei uno che apprezza il calcio come ci hai detto prima tifoso atalantino che tra l'altro faremo un po' a cornate adesso in finale ma con una squadra che meriterebbe in ogni caso anche vincesse comunque meriterebbe io l'ho già detto anche a lui non è una no non è una no non è una gufata assolutamente anzi mi farebbe piacere però insomma se vincono i bianconeri tocco ferro tocco cose certamente certamente e insomma smammate un sacco di guf in chat che stanno fanno not stonks noi abbiamo le moti con not stonks che il termine di Giovanni li lascio a vedere e e tanto c'ho il modo che atalantino non è bergamasco è calabrese ma ti fa atalanta non si sa perché ma c'è giustamente Marco Iuti spezzo mi dice in amicizia niente come sta andando che squadra dice anche cosa hai preso che giocatori hai preso su chi hai puntato chi ti sei pentito di aver preso invece chi ci hai preso come promessa allora apro la app app che ho scoperto ieri cosa volevo dire perché come il discorso prima sono vecchio certo 75 anni il nostro Nikon allora il problema è che io mi sono riavvicinato c'è stato anche questo periodo di blackout faccio un tipo di storia puoi fare quello che vuoi per me se ti metti a ballare io ti guardo lo stesso ok e c'è stato questo periodo un po' di blackout in cui durante qualche anno delle superiori ho smesso di seguire il calcio assiduamente cioè quando ero anche magari non so fino alla prima superiori mi ho avuto di andare anche allo stadio è capitato anche a me tra l'altro è stato questo blackout in cui non lo so non so per quale motivo forse perché ah no il calcio lo guardano tutti non lo voglio guardare sono alternativo senti quelle robe lì da pirla che fai quando sei ragazzino ovviamente e quindi ho avuto un po' un periodo di blackout qualche anno dopo credo il 2015 tipo i miei carissimi amici mi dicono dai vieni a fare il fantacalcio con noi dai dai ci divertiamo dai dai che siamo in otto ci divertiamo c'è anche mio padre c'è mio fratello io faccio fantacalcio con degli amici del paese che sono tre fratelli più c'è il padre poi c'è il collega di uno dei tre fratelli l'amico di l'altro fratello tutto un circolo esatto poi ci siamo io e un altro ragazzo che è sempre del mio paese siamo in dieci quest'anno però all'epoca eravamo in otto fa dai vieni vieni fai il fantacalcio ok dai ti diverso ma sì faccio ragazzi io non cioè non so neanche chi è il portiere del Milan cioè non so proprio niente io avevo smesso di seguire ma no ma tranquillo ti affianchiamo a Ursa come se fosse lo stato la prendi stato ti affianchiamo a uno e poi vieni no vedrai vedrai che bella l'asta che ci mettiamo lì chiamiamo i giocatori così e vedrai che bello non sapendo che in realtà è un massacro ed è un campo di battaglia esatto esatto dai dai ma guarda che ti diverti se no lo so vabbè dai ragazzi vediamo adesso ok fatto sta che vabbè ok mi sono buttato perché alla fine comunque è giusto provare e ovviamente il primo anno l'ho fatto con questo mio amico che lui che poi abbiamo fatto lo scambio perché adesso lui in realtà segue molto poco invece io seguo tantissimo quindi mi sono trovato in questa situazione in cui andiamo tutti a casa dei tre fratelli più il padre e ci mettiamo a fare l'asta no? quindi c'è quello che arriva a caso quello che arriva con il computer che segna le corolle su Excel quello che arriva con il foglio con tutte le cose mi ricordo le storie che avevi messo anche quest'anno ecco quello che arriva con l'articolo di giornale così è e e quello è stato il primo anno che l'avevo fatto e comunque devo dire che non era andata male mi ricordo ancora che ci avevo Marco Salonso che era la fiorentina se non sbaglio che parliamo di e soprattutto Big Mac Maccarone a Lempoli Big Mac Maccarone ragazzi tipo 18 gola aveva fatto una roba del genere che era che nome mi hai tirato fuori Big Mac Maccarone non ho proprio rimasto perché ce l'avevo ce l'avevo e in porta c'avevo Marchetti forse della Lazio che era no era il periodo in cui stava facendo cioè stava giocando da dio però mi pare sì 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 stava giocando bene non così bene perché era forse già l'anno dopo però comunque era un era un buon portiere sì 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 e da lì è iniziato il declino c'è il declino la droga la droga quella bella in cui l'anno dopo ho deciso di farlo ancora con i con loro con quelli del paese e da solo e soprattutto mi è venuta anche la brillante idea un po' perché a me piace tenere i rapporti con le persone di creare il fantacalcio con i compagni di classe che bello quindi da vittima sono diventato carnefice perché alcuni di loro il calcio proprio se ne erano sempre sbattuti per tutta la vita e hanno iniziato a seguirlo il calcio ma proprio a incazzarsi perché proprio eh ma perché mi ha segnato che però danno il bonus e si sono super invasati quindi questa è una roba molto bella perché comunque abbiamo la possibilità ancora di sentirci praticamente giornalmente queste sono cose bellissime per me quasi tutti i miei compagni di classe perché comunque siamo in 8 eravamo in 12 totali su 12-8 di maschi su 12-8 fan of the fantasy quindi ci sentiamo praticamente giornalmente eh tra l'altro poi entrano anche dentro nelle mie live a commentare a fare quindi bello ogni tanto li vedo in chat che sono molto vivaci e quindi niente ho iniziato a farlo pure con loro e tra l'altro adesso saranno 5 anni che lo faccio con quelli del paese e tipo 3 anni che lo faccio con gli altri uno di questi 3 anni l'ho vinto gli altri sono sempre stato un po' a metà classifica quest'anno malissimo quest'anno su 2 fantacalci uno sono ultimo e l'altro sono penultimo a 3 punti dall'ultimo posto malissimo si vede che è un anno così malissimo non so spiegarmi perché adesso guardo un attimo la formazione però non so veramente spiegarmi sì sì ma infatti dimmi pure come ti dicevo prima dimmi chi ti sei pentito magari di aver preso senza offesa per il calciatore in questione ovviamente chi invece l'hai azzeccato allora io ho puntato tantissimo su perché a me piacciono le sfide valla come hai diventato un professionalissimo improvvisamente col telefono che controlla a me piacciono le sfide mi piacciono la cosa che vado sempre a fare io è andare a guardare i calciatori che a quelli che vanno via a uno perché ci trovo sempre il campione ad esempio l'anno che ho vinto è perché avevo preso Caputo a uno e era l'anno che avevo fatto un botto di gol Empoli mi pare Empoli esatto quindi vado sempre a guardare i giocatori e dice quest'anno purtroppo mi è andata male perché mi sono preso Ghiasi dello Spezia che insomma a Gudelo e Ricci a centrocampo Ricci sembrava dove Ricci era veramente una delle promesse più interessanti esatto rigorista ma è vero si aveva messo al Genoa invece poi niente da fare in alcune aste è andato non dico come i top ma parecchio comunque sia una buona porzione del budget se n'è andata per lui anche da noi infatti poi da noi quello che aveva preso qua a me è primo non si capisce com'è possibile perché poi guarda anche lì il fantacalcio è diciamo 70% capire chi prendere cosa fare è anzi no scusa 30% capire chi prendere cosa fare è mi sembrava strano 70% è un'altra cosa che non dico perché siamo dei signori diciamo che fa parte anche quello del tuo nick allora esatto invece quindi in attacco c'è Ronaldo Leao poi con chi è completato le punte Ilicic che vabbè che comunque sta facendo bene sta facendo bene e poi va bene l'asta di riparazione ho preso Enxarawi e questo Zirk Z del Parma perché l'ho preso anche ecco l'ho preso anche su FIFA e mi sembrava buono però non so perché non sta andando che poi in realtà il resto della squadra ma non sta andando il Parma in generale comunque anche io ho preso qualcuno ma non sta proprio girando perché gli altri allora non so se adesso possiamo fare l'analisi completa fai quello che ti pare fai quello che vuoi ok noi parliamo nel Marche D parliamo anche di Fantacal del Milione particolare però noi parliamo quindi vai cioè la difesa ho Bonucci Milenkovic Palomino Pellegrini Singo Santon e Ghiglione che non è male non so non saprei proprio come sta andando perché non l'ho mai sta andando abbastanza bene 6-25 di Fantamedia non è poco Centrocampo secondo me è straforte Froiler Locatelli Luis Alberto Vidal Meite Arslan Agudelo Ricci un po' meno buono non so per quale motivo va così ma secondo me quella ancora più camorosa è l'altro Fanta che dove sono ultimo ma ultimo male sono deciso a fare uno scambio che potrebbero prendermi come direttore sportivo di qualche squadra attenzione attenzione allora scambio è stato il seguente ma Iguain non gioca più scrivevano in chat Iguain ma non no no non c'è più non c'è più scambio che ho fatto è stato Correa Kulusevski e Kumbullà io ho dato questi giocatori per Ghiglione Soriano e Caputo Caputo ma sai perché ma perché Caputo adesso siccome c'era tanto hype per lui quest'anno è andato leggermente meno bene degli altri leggermente è andato meno bene hanno segnato più Berardi altra gente improvvisamente è diventato una pippa per le persone non si sa perché si sono già scordati di tutto quello che hanno fatto e quindi l'ha andato via come il pane ma io l'avevo detto anche che secondo me sarebbe tornato un po' alla ribalta e spero che tornerà insomma quindi anche quello si aggiunge alla sfiga di quest'anno perché anche qui la difesa è ancora più forte Romagnoli Faraoni Spinazzola Bruno Alves Bastoni Palomino e Maele Maele che tra l'altro dovrebbe fare anche lui secondo me fa abbastanza bene si 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 Spinazzola mi piace tantissimo a me poi come giocatore Spinazzola è straforte Centrocampo Deron Lazovic Milinkovic Lukic Ramsey Soriano Pessina e poi Kovalenko cioè Pessina se gioca come sta iniziando diventa il nuovo Papu e vabbè l'attacco ho il toro che mi tira avanti il resto un po' così però quest'anno veramente male 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 però diciamo che quest'anno sono contento del fatto che abbiamo utilizzato una cosa che forse è quella che hai visto nelle storie molto divertente la cosa del si vai dillo tu dillo tu allora ci sono degli amici di un mio amico quindi conosco un tipo che conosce due tipi certo che hanno inventato meglio hanno costruito questa specie di bussolotto con dentro un un arduino che per chi non lo sapesse è una specie di sistema elettronico mappabile cioè che tu puoi dirgli quello che puoi fare con otto o dieci buchi per per l'ingresso tipo delle cuffie tipo praticamente non so se avete mai giocato al gioco del pirata dove devi mettere dentro le spade e poi mamma mia mamma mia tipo quella roba lì però senza il pirata che salta ma salta qualcos'altro tipo parole poco poco ortodosse la calma salta esatto e all'interno di questi di questi buchi ci sono praticamente dei buzzer quindi come stessi pezzucando a sarabanda questo è collegato tramite usb a un computer e il computer c'è un programma dedicato inventato da loro cioè meglio è scritto da loro perché appunto questi fanno i programmatori e non solo in cui ti scarica automaticamente tutte le con i file che dà il sito di Fanta Gazzetta tutte le formazioni e tu puoi impostare l'asta e i giocatori ti escono con una probabilità più alta in base alla quotazione più alta cioè Lukaku che è valutato 200 è più probabile che esca rispetto a Proto che è guardato quindi ne abbiamo fatto questa serata a fare questa cosa in cui schiacciassi i tastini qua tutti presi ma aspetta poi ti esci appunto i tuoi crediti però che bello bellissimo cioè veramente stupendo questa è una cosa stupenda c'è proprio svoltato la serata uno perché è più veloce perché non devi stare lì a chiamare e poi è bellissimo cioè sei lì che continui a schiacciare tipo su Ronaldo arrivi a 300 e continua a schiacciare lo fai giusto perché ti stai divertendo neanche troppo esatto cioè proprio alcuni giocatori in cui tipo Lukaku Ronaldo siamo lì in 8 così a schiacciare senza per far andare su io però io credo che ma poi che bella è l'asta cioè ok è difficile ansiosa quello che ti pare ma quanto è bello l'asta è spettacolare anche tutta la preparazione dietro chi prendo chi non prendo aspetta devi effettivamente studiare perché io ogni tanto lo dico anche la mia ragazza mi prende in giro come studiare per il fanta casa devo studiare per il fanta casa mettermi con il mio blocchettino cosa vuoi scusa cioè chi studia per le cose importanti io studio per le mie cose importanti per le cose più importanti più importanti questa è la realtà io infatti io l'anno scorso tra l'altro ho vinto quest'anno sono terzo ultimo quindi ho studiato male si vede devi anche studiare bene non è che basta studiare esatto cioè devi cercare di fare le tattiche giuste poi se parti dai difensori devi cercare di non spendere troppo perché sono gli attaccanti c'è chi lo fa in ordine alfabetico che io non so come facciano sono dei folli per me sì sono dei folli in ordine alfabetico sì sono d'accordo comunque secondo me il bello del fanta calcio perché poi sai spesso quando tu parli di fanta calcio sembra che parli di una roba molto molto settoriale molto ama solo perché ti piace il calcio vero perché comunque se non è se non apprezzi il calcio ovviamente non è che vuoi è però ci sono dietro tante cose belle cioè il fatto che comunque l'asta rivedi delle persone ti senti c'è un po' di c'è un po' di competizione sana sì 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 poi ci sono anche quelli che vegano che litigano per il calcio ma certo però fortunatamente non è mai stato il mio caso cioè è bello poi arrivi ti vedi con gli amici magari la domenica sera vedi la partita secondo te chi vince non mi interessa come è andato a fare qualcosa così basta sono dei momenti un po' dei bei momenti ma poi tieni appunto dei rapporti stai con gli amici lo trovo veramente un io purtroppo l'ho iniziato a fare tardi perché io avevo a scuola in realtà l'opposto tuo che dicevi tu prima i miei compagni in classe erano proprio loro si mettevano intervallo banchi li sistemavano un attimino in cerchio gazzetta al centro e tutti facevano il fantacalcio mi erano invitato penso due tutti gli anni penso a giocare e ho sempre detto di no perché mi piaceva guardarli ma seguivo il calcio anche però dicevo boh non mi sento bravo per farlo e ho iniziato tardi tornassi indietro mi sarei divertito ancora di più col fanta è veramente un un qualcosa che finché non ci sei dentro non capisci quanto ti può divertire quanto e quanto ti può prendere ti ringrazio veramente tanto per essere stato qua con noi è stato un piacere potevamo andare avanti a parlare altre due ore è veramente stato divertentissimo in chat hanno apprezzato tutti ti hanno fatto tutti i complimenti anche quando abbiamo fatto quella piccola pausa hanno detto tutti che ti hanno fatto tutti un sacco di complimenti spero di risentirci e vabbè per i fatti nostri sicuramente perché abbiamo un po' da sclerare per il fanta e per le altre call però anche insomma in generale niente complimenti per la tua vita perché veramente è una vita interessantissima grazie e complimenti per tutto quello che state facendo bello grazie grazie anche te per avermi invitato per avermi ospitato sul canale grazie chat che avete seguito i deliri di un matto e di un moderatore anche lui matto esatto di un mediatore quindi no davvero grazie di guardia mi sono divertito molto sono tanto contento era quello che mi premeva da tutta questa cosa qui che ti diverti sempre tu vi ringrazio davvero tutti speriamo appunto di poter fare cose insieme magari anche su Twitch comunque nella vita ci vediamo ci sentiamo assolutamente poi ci becchiamo adesso ci mettiamo d'accordo che ci dobbiamo anche vedere appena finisce tutta questa faccenda qua sì 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 andiamo a fare un giretto assieme e mi fai coccolare il cane se permetti sì 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 volentieri un po' pauroso però una volta che diventa diventa un po' più un amore va bene va bene ciao caro ciao grazie mille ciao ciao amici allora spostiamoci dall'altra parte è stato veramente un una bellissima intervistina una bellissima chiacchierata che cane ha e ragazzi dovete andarlo a followare su Instagram per vedere che cane ha e allora comunque amici io vi consiglio ancora di andare a followare Superbuttolo qua su Twitch di andare a seguire Nairobi D che è il suo diciamo è quello che fa lui da solo come ha spiegato benissimo lui i pinguini se non li conoscete ma mi sembra strano nel senso non avete vissuto in Italia nell'ultimo anno e mezzo ma in realtà li conoscevo anche da prima sono fan fanissimo ero emozionatino comunque sia però faccio quello professionale insomma è anni di Twitch qua l'abbiamo creata noi sta piattaforma non è che mi posso emozionare bisogna tenere i nervi saldi allora mi ha fatto piacerissimo insomma parlare con una persona interessante come lui mi ha fatto piacere che lo avete apprezzato voi in chat mi ha fatto piacere anche che ci fosse Elio che saluto in caso ci fosse ancora in chat è stato veramente un onore e un piacere averlo anche qua ciao pinguino tra l'altro no un po' nervosino perché ovviamente però come avete visto il fatto di scriverci anche ogni tanto per i fatti nostri era reso la cosa molto più amichevole ed è quello che volevo volevo si divertisse perché non sono un giornalista e non mi interessa esserlo quindi era veramente tutto for fun e per divertimento ciao Elio un bacione un abbraccione anche a te che tra l'altro fa live anche lui ogni tanto visto su Age of Empires ti ho visto qualche volta non so se fai anche altro perdonami comunque seguite anche lui se volete che ogni tanto fa queste fa queste queste live improvvise e niente amici io direi che abbiamo qualche ora quanto abbiamo fatto abbiamo parlato due ore praticamente abbiamo parlato io volevo dedicare cosa ho fatto quali parole cosa ho detto scusa Corn ho detto una parola strana cosa ho detto non mi sono reso conto comunque tra l'altro vi piace anche questo ho messo il lettino tutto con lo sfondo caldo un po' come se fosse un soggiornino un soggiornino no perché c'è il letto però una situazione calorosa calda quasi pornografica per il bonboot al massimo un promemoria sì certo io parlerei anche un po' di WandaVision perché so che volete sentirmi parlare anche di WandaVision ma ho paura di non arrivare sano alla fine fino a stasera quindi sto pensando come gestirmela se parlarne direttamente settimana prossima con poi l'uscita venerdì della settima puntata Moro tra l'altro gli scappa quello che gli scappa quindi forse ne abbiamo bisogno lo so anch'io ho bisogno di parlarvi di WandaVision però mi piacerebbe anche lasciare questa live proprio dedicata a Boot proprio lasciarla qui dedicata a lui con l'inter grazie raghi troppo gentili se volete stare nel tunnel del Bianconiglio basate sul canalino in tarda notte ora io vado esatto ragazzi se volete passare dal buon Elio anche lui fa le live e ovviamente immagino gli faccia piacere avere il vostro follow e un bacio al tuo fantastico visino chiudi la live e farla ripartire ma allora a sto punto facciamo una cosa ragazzi ne parliamo per bene settimana prossima di WandaVision ci dedico tutta la live se vuole può venire anche Moro perché tanto stiamo parlando anche per i fatti nostri quindi se vuole venire a parlare anche Moro insomma vediamo un attimino come gestircela e dedichiamo proprio la live a WandaVision la chiamo WandaVision scrivo spoiler così ne parliamo chi non ha visto la serie così non si spoilerà niente chi l'ha vista ottimo rimane qua con noi e chiacchiera insieme a noi e e oggi lasciamo la live l'intervista solo per non so per Boot e tutto quello che ha fatto lui va bene? io quasi quasi vi ringrazio ancora Rosa ringrazio Biscotto ringrazio Thunder che ha regalato la sub prima boot appunto ringrazio sempre Thunder che ha regalato la sub Adelio i Giureppe insomma grazie a tutti ragazzi è stata veramente una bellissima live sono contentissimo di come è venuta fuori e e basta vi direi di fare vado a fare uno stino a qualcuno fatemi vedere a chi posso fare uno stino aspettate un attimo scusate per anche l'inizio della live che c'era un po' di problemi c'erano un po' di problemi perché queste cuffie mi danno problemi stacco io mi stacco la testa alle cuffie sempre ci mancherebbe io direi di fare un ostino non lo so non lo so ragazzi c'è Johnny Crick c'è J-Taz andiamo da Johnny che facciamo andiamo da Johnny da J-Taz quale J volete raidare e Kuro Lili anche lei l'abbiamo già raidata un bacione Kuro Lili ci mancherebbe andiamo da Johnny dai sì gli portiamo magari gli facciamo un saluto raid tra l'altro adesso ha cambiato nome quindi al uno zero io non so Johnny Crick andiamo da Johnny me lo salutate calorosamente ditegli se vuole fare l'intervista di farmi sapere su Instagram su Telegram su Whatsapp dove gli parla lui diteglielo che tanto adesso arrivo anch'io in chat però diteglielo mi raccomando che siamo rimasti un po' in sospeso dobbiamo organizzarci grazie ancora per la live è stata bellissima grazie ancora a But a tutti i pinguini per quello che fanno e io vado a dormire probabilmente a stasera con FIFA mi raccomando FC Pro Club torniamo ciao bellezze